Buonasera, ben ritrovati. Si riprende la seconda parte del Consiglio Comunale del 29-12-23. Sono le ore 21 e 25. Crederei alla Segretaria di rifare l'appello. Sì. Segretaria? Ci sono, ci sono. Perfetto. Lunardi? Con calma. Scusate, scusate un attimo, aspetta. Presente. Gorbi? Presente. Bruschi? Presente. Vettori? Presente. Gargini Laria? Presente. Kitty Silvia? Presente. Lotti? Presente. Bardelli? Presente. Gargini Alessio? Presente. Agostini? Presente. Scurtai? Presente. La Pietra? Presente. Cioni? Presente. Benini? Presente. Romagnoli? È ancora assente. Barbasso? Presente. Basetti? È ancora assente. Quindi sono 15 presenti. Sì. Ridico al microfono gli scrutatori che sono La Pietra, Lotti e Barbasso. Allora, si passa al punto 4. Direi di fare 4, 5 e 6 che sono 3 punti che riguardano il bilancio. Illustrazione unica attraverso gli assessori di competenza e poi il dibattito unico, dopodiché la votazione viene fatta separata. Ok? Bene. Allora, leggo i punti che sono 4. Approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 24-26. Relativo elenco annuale 2024, essenzio dell'articolo 37 del decreto legislativo 36-2023. È allegato i 5. Punto 5. Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione DUP 2024-2026. E il punto 6. Bilancio di previsione 2024-2026. Approvazione. Do la parola all'assessore, al vice sindaco Gorbi. Grazie, grazie Presidente. Io farò un'illustrazione generale, poi ovviamente ci saranno gli interventi che permetteranno di arricchire ulteriormente quella che è l'analisi di questo bilancio, dei documenti di bilancio 2024-2026 che vengo a presentarvi appunto e costituiscono il proseguio delle politie di programmazione di questa giunta comunale. in particolar modo il quarto punto all'ordine del giorno, cioè il piano delle opere, il quinto, il DUP, o se lo ho invertiti è lo stesso, insomma, contengono come dire le intenzioni, le programmazioni, i progetti, i programmi di questo ente e quindi invito caldamente, come faccio sempre, i consiglieri a seguirli anche nel corso dell'anno con i vari aggiornamenti perché danno l'idea di dove vogliamo andare. Il DUP lo so che è un documento anche pesante ma va letto, va seguito, perché la programmazione dell'ente è lì, quindi i vari settori dell'ente, i vari settori del comune si basano su quello per svolgere il lavoro quotidiano ma che è un lavoro quotidiano che poi costruisce mattone su mattone il futuro e i progetti futuri. Dicevo, questi documenti si trattano di un semestre di documenti contabili e descrittivi che esplicitano le azioni che si intendono ad attuare nel prossimo triennio per dare concretezza alla seconda parte del mandato amministrativo perché siamo quasi a metà del nostro mandato. Va sottolineato lo sforzo fatto da tutta l'amministrazione comunale per arrivare ad approvare il bilancio 2024-2026 entro la fine dell'anno corrente, è la prima volta dopo tanti anni e la disponibilità a inizio 2024 del bilancio di previsione approvato dal Consiglio senza ricorso all'esercizio provvisorio consente di dare pronte risposte al territorio, ai cittadini fin dai primi giorni dell'anno garantendo non solo tutti i servizi alla cittadinanza ma anche sostenendo l'economia del territorio e assicurando un sistema sociale in grado di supportare le molte famiglie il cui reddito si è ridotto in modo consistente negli ultimi anni. Il contesto generale nel quale i documenti di bilancio sono stati elaborati ha come elemento di fondo la puntuale attenzione alla spinta inflattiva che si è consolidata negli ultimi 18 mesi nell'area dell'euro con riflessi sulla situazione nazionale di particolare importanza ma anche sulla situazione locale. L'inflazione colpisce non solo i redditi, le famiglie, i consumi delle famiglie ma colpisce anche le aziende e colpisce infine anche gli enti locali perché anche noi siamo come ente consumatori quando acquistiamo dei materiali quando commissioniamo dei lavori, quando affidiamo una progettazione eccetera ovviamente se c'è una crescita di prezzi si risente su quello che è il bilancio dell'ente in particolar modo sulle uscite dell'ente. L'approccio seguito dall'ufficio di ragioneria è stato quindi improntato al principio della prudenza che richiede di applicare un procedimento valutativo e di formazione dei documenti del sistema di bilancio che risulti improntato ad una corretta ponderazione dei rischi e delle incertezze connesse al quadro di contesto generale che si prevede nel prossimo triennio. Il bilancio di previsione è il risultato del lavoro di squadra e di collaborazione tra i vari settori dell'amministrazione ed è frutto di un approccio di ampia condivisione delle problematiche e strategie con la definizione delle priorità rispetto all'evidente scarsità di risorse in linea con gli obiettivi problematici del mandato della Giunta Lunardi. Vorrei sottolineare questo aspetto. Talvolta sento dire che basta un ragioniere per fare un bilancio, non voglio offendere i ragionieri ma non basta un ragioniere. Bisogna avere una visione di insieme, non è solo la somma 2 più 2 fa 4. Bisogna capire come ci si arriva a quel 4 e quali scelte si fanno per arrivare a quel 4. Se no altrimenti va bene, è vero, per fare le somme basta neanche un ragioniere, una calcolatrice. Però poi le cifre da mettere in quella colonna che comporta una somma finale sono fatte da delle scelte che sono scelte politiche, scelte politiche e scelte amministrative. Alcune, quando intendo scelte politiche, sono scelte proprio di una maggioranza che governa e decide di fare una ossa piuttosto che un'altra. Scelte amministrative perché talvolta ci sono delle normative che ci spingono verso una certa direzione e quindi o ci obbligano addirittura a una certa direzione per cui non è che si sceglie per esempio quanto accantonare il fondo credito di dubbia esegibilità. C'è una regola e quella va rispettata. Quindi sì, in quel senso è ragionieristico il bilancio ma lo è anche sotto un altro aspetto che appunto è quello di natura strettamente politica. Il bilancio 2024-2026 è per questo un ponte tra il passato, il presente e il futuro. Fa tesoro e prosegue alcune scelte adottate nel passato, prevede la conclusione di numerosi progetti e pone il seme per interventi che saranno realizzati nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Mantenere le tasse e le tariffe invariate, nonostante che per il Comune i costi siano lievitati a causa dell'inflazione, è stato l'obiettivo prioritario che abbiamo perseguito in questo bilancio non senza difficoltà. A fronte di aumenti dei costi non abbiamo aumentato l'imposizione fiscale, non abbiamo aumentato le tariffe. Il livello dei servizi che riusciamo a erogare è rimasto invariato, continuiamo ad investire sul territorio e a realizzare i progetti. Gli anni della pandemia, ormai speriamo alle spalle, hanno dato una spinta incredibile alla digitalizzazione della pubblica amministrazione con la conseguente necessità di adeguare gli strumenti a disposizione e le competenze. Grazie ai fondi del PNRR che abbiamo ottenuto, l'amministrazione sta implementando la digitalizzazione del Comune con nuove funzionalità che permetteranno al cittadino di svolgere numerose pratiche online e di avere tutte le proprie richieste, informazioni e dati in uno spazio virtuale, sì, ma molto concreto. Quindi non solo manteniamo il livello dei servizi fino ad ora erogati, ma guardiamo anche avanti per mantenere la nostra amministrazione al passo con i tempi ed anzi, in qualche caso, lasciatemelo dire anche anticiparli. Il Comune di Serravalle Pistoiesa ha redatto i documenti di programmazione nell'ambito dei quali sono stati inseriti lavori e opere che l'amministrazione intende effettuare nel corso del mandato. Qualsiasi decisione di investimento non solo comporta un'attenta analisi del quadro economico dei costi che richiede per la sua realizzazione, ma anche gli effetti che si riverberano negli anni successivi in termini di spesa corrente. Mi spiego meglio e faccio un esempio. Domani inaugureremo la palestra. La palestra non è stata solo pensata per quanto costava realizzarla. L'ho già detto nei bilanci del passato, ma tutte le volte si fa un'opera come la palestra, come una scuola, come un impianto sportivo. Bisogna anche pensare quanto costerà mantenerlo. E per esempio sulla palestra è stata fatta una scelta di fare un investimento importante, ma di attuare un risparmio sui costi, per esempio, del riscaldamento, dell'energia, in modo tale da avere un vantaggio di lungo termine, che certamente è un po' come quando a casa si mette, non lo so, il cappotto o i pannelli solari, no? E' ovvio che, o i doppi vetri, bravissima, si cambiano gli fissi, cioè si spende in quel momento ma si crea un risparmio per il futuro, tenendo conto di un fatto che non l'ho ancora citato, ma l'aumento delle spese energetiche sono significative sia per le famiglie che per le imprese e per gli enti locali. Il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 24-26 chiude con i seguenti totali a pareggio, così si comincia a parlare davvero di numeri. Per il 24, 14 milioni e 788 mila euro, per il 25, 16 milioni e 446 mila euro e per il 26, 15 milioni e 548 mila euro. Per quanto riguarda la politica tariffaria, lo dicevo prima, non abbiamo modificato le tariffe e quindi partiamo dall'Imo che abbiamo approvato poco fa nella prima parte della seduta. Le previsioni sono state effettuate tenendo conto degli incassi definitivi dell'esercizio 2022 che furono di 2 milioni e 243 mila e dell'incasso della prima rata del 23 che è di 1 milione e 140 mila. La previsione quindi è formulata applicando le aliquote dell'anno precedente perché sono state confermate. C'è in questo ambito anche il recupero dell'evasione IMU con i proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività d'accertamento che sono stimati per il 24 in 410 mila euro e per il 25 per il 26 entrambe gli anni per 430 mila euro. Per quanto riguarda invece il CUP, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria, ricordo, ma il Consiglio se lo ricorda bene, che nel 22 è stato effettuato un censimento sui passi carrabili e sulle esposizioni pubblicitarie e nel corso del 23 si è dato avvio al recupero dell'imposta pregressa con qualche polemica da parte di qualche cittadino ma ai quali va ricordato che siamo stati, come dire, posso usare questo termine, forse generosi perché in realtà non abbiamo recuperato i cinque anni progressi. Abbiamo recuperato solo un anno, quindi in realtà la norma predispone che si possa andare fino a cinque anni indietro, quindi era giusto, come dire, venire incontro ai cittadini però rimettendo le cose in pari perché questo era un comune dove qualcuno il passo carrabile lo pagava e qualcun altro no e quindi c'era un'ingiustizia fiscale, diciamo così, da sanare prima ancora di aumentare le entrate. La previsione è stata effettuata stimando quindi un incremento del gettito conseguente alle risultate del censimento e in base anche al recupero dell'evasione conseguente e da una previsione di 165 mila euro. Per l'addizionale comunale IRPEF la stima del gettito è stata effettuata prudenzialmente di poco rialzo rispetto alle previsioni dell'esercizio precedente, la previsione è di un milione cento ed è comunque entro il gettito minimo atteso risultante dal simulatore che è presente sul portale del federalismo fiscale. Poi nel corso del 2024 lo monitoreremo perché lo sapete, lo scorso anno avevamo modificato le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF quindi ancora non è concluso l'anno, concluderà tra un paio di giorni, quindi la certezza di quant'è l'addizionale IRPEF lo sapremo tra qualche tempo. È chiaro che la previsione l'abbiamo fatta alla meno, diciamo così, in maniera prudenziale, poi via via verificheremo se le previsioni sono esatte o meno. Infine per quanto riguarda la Tari, la cosiddetta tassa sui rifiuti, le previsioni sono state effettuate sulla base del PEF, del piano economico finanziario già deliberato dall'autorità di ambito lato Toscana Centro per il periodo 2022-2025, riproponendo sul 2026 lo stesso importo di gettito previsto nel 2025. È un dato non reale, non corretto, non perché si sia barato, ma perché nel corso del 2024 ci sarà l'aggiornamento del PEF per il biennio 2024-2025, quindi solo lì sapremo quant'è per il 2026. Le tariffe saranno quindi approvate successivamente, entro il termine previsto nell'annumativa vigente del 30 aprile 2024, contestamente ad eventuali modifiche regolamentari. Di conseguenza si procederà poi successivamente ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio di entrata e di spesa. Permettetemi una digressione brevissima. Oggi sui social ho visto che, ma c'era stato nei giorni scorsi in altre pagine, ora oggi su 6 di Quarrata 6 c'era un cittadino che diceva, il comune ha aumentato la Tari. Qualche giorno fa c'era su Serravalle, qualche giorno prima su Pistoia, qualche giorno prima su Pievanievole e così via. Va evidenziato che i costi tariffari non dipendono dalle scelte autonome dei comuni. Questo bisogna dirlo per amore della verità, perché talvolta consiglieri di minoranza, di destra e di sinistra, a secondo di chi governa in quel comune, usano l'aumento della Tari come strumento di battaglia politica. Quindi sto facendo un ragionamento generale non di destra e non di sinistra, per amore della verità. La tariffa viene stabilita dal lato. I comuni prendono atto di quella che è la tariffa, che la legge, secondo le disposizioni dell'era, prevede che copra al 100% i costi del servizio. Quindi se il servizio costa sempre di più, per mille motivi su quali ora non voglio entrare, perché ci sarebbe se no da ragionare il piano di smaltimento di rifiuti della Regione, delle scelte fatte di fare certi impianti piuttosto che altri o di non fare certi impianti, ma non importa. In questo momento conta un fatto che se il servizio costa 100, i cittadini devono pagare per quel servizio 100, perché è una tariffa appunto, cioè si paga quello che costa sostanzialmente. Se il costo diventa 110, è evidente che la tariffa aumenterà di 110, tanto a Serravalle quanto a Quarrata, quanto a Pistoia, quanto a Monteatini, quanto a Pescia, indipendentemente da chi governa, sia al centro-destra, al centro-sinistra o in liste civiche. Quello noi bisogna prenderlo e così è. Credo che tutti noi, per amore della verità, si debba fare uno sforzo di informazione corretta nei confronti dei cittadini. Lo dico a Serravalle, lo vorrei dire a chi invece fa l'opposizione a Quarrata o fa l'opposizione a Pescia, piuttosto che chi fa l'opposizione a Monteatini. Ecco, non importa il colore, la verità è che non è il comune di Serravalle che stabilisce le tariffe, non è il comune di Monteatini, non è il comune di Pistoia, ma nemmeno quello di Empoli piuttosto che di Firenze o di Prato, voglio dire l'ambito è il solito della Toscana centro per tutti quanti noi. Passo ora a parlare, a illustrare il fondo di solidarietà comunale, che è il fondo iscritto tra le entrate correnti, ad oggi perché ancora lo sapete la legge di bilancio dello Stato non è approvata, sul sito del MEF è la somma a disposizione per l'anno 2024 di 1.400.000, ma è stata formulata una previsione nel nostro bilancio più basso nell'intento di tener conto dei tagli della spending review previsti nella proposta di legge di bilancio che però appunto dicevo non è approvata e che saranno resi noti a gennaio ovviamente dopo l'approvazione. Pertanto la previsione è stata prudenzialmente stimata per 1.380.000 euro per tutte e tre le annualità, 24, 25 e 26. Per quanto riguarda l'imposta di soggiorno, l'abbiamo parlato prima quindi non mi dilungo più di tanto, l'entrata come si diceva anche nel dibattito precedente è destinata a interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione recupero dei beni culturali e ambientali locali e ai servizi pubblici locali. Lo stanziamento previsto in bilancio è di 25.000 euro in via prudenziale per tutte e tre gli esercizi, poi anche questo siccome un'imposta nuova andrà verificato via via che procede il tempo. I trasferimenti correnti sono previsti per il 24 635.000 euro, per il 25 576.000 euro, per il 26 552.000 euro. In questi confermo che è stato stanziato nella legge bilancio 22 a copertura degli oneri connessi all'aumento delle indennità degli amministratori, l'importo di 62.106 euro per tutte e tre le annualità. Qualcuno ogni tanto scrive che il sindaco è diventato ricchissimo. Io me lo auguro per lui onestamente perché non proverai nessuna invidia, mi fa piacere per te sindaco se tu diventi ricco. Però è una legge dello Stato, quello dell'adeguamento delle indennità agli amministratori, voluta dal governo, chi c'era prima della Meloni? Me ne ricordo neanche più. Draghi. Draghi, no no, dal governo Draghi, che riconobbe un importante contributo dei comuni nel periodo della pandemia. E quindi il governo dell'epoca disse che le indennità dei sindaci, degli amministratori in generale, non erano adeguate ai tempi. E visto lo sforzo era stato fatto, fu deciso per norma statale di aumentare le indennità degli amministratori. Ma siccome le indennità degli amministratori vengono pagate dall'ente locale, lo Stato decide, non può decidere andando a pescare nel portafoglio dei cittadini del comune, ma decide e trasferisce quell'aumento di indennità. E quindi al comune di Serravalle gli arrivano, per questi aumenti, 62.106,18 centesimi per le tre annualità. Quindi ai cittadini, sì dice, i cittadini di Serravalle sono anche cittadini italiani, se non pagano da parte pagheranno dall'altra. Ho capito. Ma non siamo noi il governo, né Draghi né Meloni, non abbiamo deciso noi sta norma, esattamente come tante altre cose. Se ci viene detto di fare così e ci viene trasferito 62.000 euro, si fa esattamente quello che si fa con, per esempio, la misura dei nidi gratis, dove ci vengono trasferiti 43.405 euro. Norma della regione, ne prendiamo atto, si può essere d'accordo o no sui nidi gratis, ma a noi ci viene trasferito quella cifra e le famiglie che ne hanno diritto non pagano il nido. Non è che si può dire no, tenetevi questi soldi, perché la misura c'è, è una normativa regionale e sono sempre soldi di cittadini anche quelli, perché questi 43.000 euro a Serravalle, come a Pescia, come a Montreatini, li pagherà qualcuno. Con l'addizionale IRPEF regionale, io non lo so con che, che aumenta, per esempio, quest'anno. Però il dato è questo, che sono soldi della regione, vengono trasferiti dagli antilocali e li prendiamo. Cioè, ci sono poi 21.538 euro per contributi statali, interventi, per esempio, a favore degli alunni con disabilità. Stesso discorso, si fa volentieri, siamo più che contenti con l'assessore di la Regagini di aiutare gli alunni disabili, ma sono soldi che non possiamo rifiutare in qualche modo. Arrivano e, giustamente, vengono destinati a uno scopo assolutamente nobile. Per quanto riguarda le attività di controllo degli illeciti, che in particolar modo sono illeciti per violazione al codice della strada, sono 137.500 euro per tutte e tre le annualità e tengono conto anche dell'emissione dei ruoli per recupero coattivo degli anni precedenti. I dividendi dalle società partecipate sono stimati per 165.000 euro per il 2023. Voglio sottolineare un aspetto importante per quanto riguarda i permessi a costruire, i cosiddetti oneri. Le entrate sono state destinate a spese di manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con queste percentuali per il 2024 il 25%, per il 2025 il 28,66% e lo stesso per il 2026. Infine, sempre a proposito di entrate, per quanto riguarda le entrate correnti, 2024-2026, la previsione relativa ai proventi derivanti dall'indennizzo per la presenza della discarica del cassero sulla base del fatturato, come sapete, eccetera, eccetera, è stata stimata questa entrata prudenzialmente tenendo conto dell'andamento degli introiti quadrimestrali realizzati ad oggi nel 2023. Ovviamente ad oggi significa che ci manca l'ultimo quadrimestre perché lo sapremo anno nuovo, quindi è una stima anche questa come facciamo tutti gli anni e in via prudenziale per tutte e tre le annualità è stato stimato 1.250.000. C'è poi un piano delle allineazioni che fa parte del bilancio e che prevede la allineazione o valorizzazione immobiliari per il triennio 24-26 che per quanto riguarda il 2025 prevede un'alineazione per importi complessivi di 521.935 euro. In riferimento al bilancio 2024-2026 l'accantonamento del fondo crediti di dubbio e esercibilità è ripartito, questo lo sottolineo sempre perché è un elemento importante nel nostro bilancio, in questo modo nel 2024 il fondo crediti ammonta 586.872 euro, nel 2025 il 616.665 euro e lo stesso importo per il 2026. Per quanto riguarda la politica relativa alla previsione di spesa corrente le previsioni recepiscono, qui noi abbiamo parlato di entrate, ora cominciamo a parlare di uscite, le previsioni recepiscono gli obiettivi fissati dall'amministrazione e garantiscono il mantenimento di tutti i servizi rispetto alle norme vigenti. Come già detto in precedenza sulla spesa corrente gravano pesantemente i maggiori oneri per l'approvvigionamento energetico e per l'inflazione. Per quanto riguarda la spesa, fatemi dire una cosa qui, spesso in passato ma anche di recente in un'intervista ho sentito il sindaco Mungai che diceva quando era sindaco io e anche assessore c'era il patto di stabilità ed è verissimo. Ma ogni amministrazione si trova a vivere le difficoltà del momento. All'epoca c'era il patto di stabilità, oggi c'è l'aumento dei costi di energia e l'inflazione. Non mi fate di il che è meglio e il che è peggio. Io dico che ci sono state quelle difficoltà lì e ci sono altre difficoltà. Ora è ovvio che come si fa in famiglia si valuta quali sono le entrate e si decide a quel punto quali programmi di spesa fare. In quel momento c'era un tipo di bilancio che veniva richiesto in qualche modo, veniva imposto anche in quel caso dallo Stato perché le leggi sul patto di stabilità venivano ovviamente più in alto che dalle scelte comunali. In questo caso l'inflazione e l'aumento dei costi di energia non è una scelta nostra ma è una realtà dei fatti e noi ci adeguiamo a quello che è il momento. Quindi sulla spesa corrente ovviamente gravano sia l'inflazione che l'aumento dell'energia. Per quanto riguarda la spesa del personale rispetta i limiti di spesa di legge e l'attuale organico garantisce sicuramente i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi dell'enti. La previsione per il 2024 include la spesa relativa a tutti i dipendenti con valori stipendiali già aggiornati rispetto agli incrementi previsti dal nuovo contratto nazionale del novembre del 22 e ricordo che questa amministrazione ha disposto di anticipare l'emolumento secondo quanto previsto dalla legge 234 del 21 nel mese di dicembre 2023. Lo ricorderete l'abbiamo fatto poche settimane fa. Sono stati inoltre accantonati e nell'apposito fondo degli oneri per il nuovo contrattuale dei dipendenti che avverranno i prossimi anni. Questo lo facevamo prima e continuiamo a farlo. Si era spiegato mi pare anche in commissione quando ci siamo visti. Il piano triliannale delle opere pubbliche invece per quanto riguarda la spesa per investimento verrà illustrato poi meglio dall'assessore Gargini nei dettagli però riporto la distribuzione delle spese che è pari a 1.276.000 euro nel 2024, 2.067.304 nel 2025, 1.815.810 nel 2026. C'è la quota dell'imborso prestiti per gli oneri di ammortamento relativa alla quota capitale dei mutui che abbiamo in essere di cui abbiamo parlato tante volte per il 2024 stiamo parlando di 314.472 euro nel 2025 saranno 328.350 e nel 2026 315.4.67 non cito mai centesimi ma mi comprenderete. La situazione di cassa del comune è solida. Abbiamo situazione di cassa che non ha mai fatto ricorsa ad anticipazioni di tesoreria stanziate a bilancio il fondo di cassa all'incirca perché poi manca il giorno quindi ormai siamo abbastanza precisi comunque ammonta più di 7.230.000 euro. In conclusione di questa illustrazione voglio sottolineare un'esigenza che dobbiamo avere presente tutto il consiglio è bene che l'abbia presente visto le difficoltà del momento è quanto mai opportuno perseguire azioni volte alla revisione della spesa corrente per raggiungere un miglioramento degli equilibri di bilancio. È quello che dicevo prima in qualche modo riferendomi all'intervento dell'ex sindaco Mungai nonché già precedentemente assessore a bilancio. In base alle difficoltà del momento bisogna agire di conseguenza. Lui aveva i limiti di ripeto del patto di stabilità noi abbiamo altri limiti che sono gli aumenti dovuti al fatto che la cheer food aumenta il costo della mensa perché c'è l'inflazione. Se il comune sceglie di non aumentare la retta insomma il contributo delle famiglie e la parte utenza delle famiglie quindi che pagano la mensa per i propri figli è chiaro che in bilancio bisognerà trovare le risorse o rinunciare a qualcos'altro e quindi ecco quali sono le scelte importanti da fare non tanto sugli investimenti e non solo sugli investimenti che sono certamente la parte più visibile da parte della cittadinanza. Se si fa una scuola lo vedono tutti, se si fa una pista d'atletica, se si asfalta una strada se ne accorgono tutti ma noi amministratori abbiamo anche il dovere di stare molto attenti a quello che riguarda la spesa corrente perché le spese significative l'ho detto è ovvio sono il personale, il funzionamento della macchina ma poi quel funzionamento deve corrispondere a dei servizi che devono essere ovviamente di buon livello per i cittadini. Consentitemi infine una breve postilla perché questo è stato l'ultimo bilancio di previsione della dottoressa Federica Simoni che tra qualche settimana andrà in pensione. Sento quindi di doverla ringraziare non solo a titolo personale ma anche a nome di tutti i precedenti assessori al bilancio e precedenti sindaci nonché a nome di tutta l'amministrazione per il lavoro sempre puntuale che ha svolto con scrupolo in tanti anni. La Valentina si piglia una bella eredità una gatta da appelare. Alla dottoressa Simoni vanno i nostri migliori auguri perché possa godersi appieno un riposo dal lavoro ampiamente meritato. grazie vice sindaco naturalmente mi associo ai complimenti che ha fatto il vice sindaco. La parola a l'assessore Gargini Alessio per illustrare il piano delle opere. Dopodiché si aprirà il dibattito sui tre punti. sono stanco. Grazie presidente sindaco e colleghi del consiglio. Il piano triennale delle opere pubbliche è lo strumento con cui il comune individua i grandi interventi e le opere che andranno a modificare il nostro territorio. Scuole, strade, edifici pubblici, scolastici eccetera. Indicando anche i tempi e le risorse destinate ai lavori da eseguire appunto nel triennio. Prevede infatti che ci sia una attività di realizzazione di questi lavori di singolo importo superiore a 150 mila euro che deve svolgersi sulla base appunto di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali in coerenza con il bilancio. Nell'elenco annuale delle opere pubbliche del 2024 non ci sarà nessuna opera attualmente superiore a 150 mila euro. Nell'ultima discussione sul piano triennale erano 100 mila euro poi secondo quanto previsto l'articolo 37 del codice degli appalti ora questa quota è aumentata e si parla di 150 mila euro per rientrare in questo piano. Non ritrovate per esempio la previsione con l'avvio dell'adeguamento sismico ed efficientemente energetico della scuola media a Casal Guidi che verrà spostato al 2025 per un milione mi sembra un milione 700 mila euro circa e i 73 mila euro previsti per la progettazione nel 2023 ad oggi ad oggi non sono stati ancora affidati sono stati mandati in avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione e se del caso una volta approva quando si approverà il consuntivo verranno riutilizzati. Dobbiamo aspettare di approvare il consuntivo che quest'anno avverrà qualche mese prima del solito penso lo so marzo aprile fine maggio per affidare la progettazione esecutiva appunto in continuità al progetto che noi abbiamo già definitivo oppure questi soldi potrebbero essere adoperati per studi di ridimensionamento del progetto su basi conoscitive più approfondite. Dico questo se ne ha avuto modo di parlarne anche in altre occasioni perché quella scuola su cui andiamo a intervenire e ben venga un adeguamento sismico sappiamo tutti quando poi ci ritroviamo ad eventi di questo tipo cosa vuol dire avere una scuola sicura e su questo fronte credo che l'amministrazione attuale quella precedente abbia fatto diversi interventi di questo tipo su quella scuola effettivamente ci sembra che questa spesa così importante per la quale avremmo dovuto accendere anche un mutuo e mi piace sottolineare che di mutui non abbiamo accesi nessuno in questo in questo periodo e nella legislatura passata abbiamo pensato che forse una revisione del progetto magari con interventi più localizzati più puntuali ci possa permettere di raggiungere un risultato ancora ancora più che buono perché già il risultato di quella scuola così com'è non è malvagio anzi è sopra i criteri di pericolosità e poi potrebbe anche permetterci ad esempio ci sono dei bandi regionali che stanno per partire di poter avere anche dei finanziamenti che ci possono consentire di andare già o con quel progetto che avevamo già in modo definitivo in atto oppure darci un ristoro per poter modificare e spendere molto meno dei soldi che abbiamo messo in programma l'anno scorso nel 2024 abbiamo la possibilità con tutte le restrizioni che prima il vice sindaco vi ha esposto dovute a queste contrazioni energetiche abbiamo una possibilità di avere comunque in bilancio 375 mila euro da destinare ad investimenti sui capitoli della unità di progettazione per queste opere minori quindi inferiori a 150 mila euro di cui si parlava prima nonostante siano individuate anche da parte nostra con attenzione insistono delle deroghe in quanto sono sottratte alla disciplina del programma per cui possono essere anche finanziate e realizzate prescindendo dai tempi del loro inserimento nel piano. Cosa facciamo con questi soldi? Abbiamo cercato di pensare a cose di qualità e sostenibilità a scelte di qualità e di sostenibilità appunto dando la priorità alla realizzazione di interventi significativi anche se non di importi elevati ma tesi a migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. 150 mila euro saranno impiegati per la manutenzione straordinaria del cimitero di Serravalle inoltre ne abbiamo altri impegnati per 115 mila euro nel 2024, 80 mila nel 2025, 80 mila nel 2026 sempre per i cimiteri dell'intero dell'intero comune amministrato. In modo da avere a fine mandato su questo aspetto di interventi in queste aree di culto una sistemazione, una realizzazione, una ristrutturazione là dove occorre generalizzata e avere finalmente questi impianti, questi luoghi cimiteriali adeguati e decorosi così come merita questi luoghi fruiti anche da tutti noi ma che siano in grado di essere fruiti agevolmente anche dai portatori di Endocamp. Altri 150 mila euro li prevediamo di impiegarli per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di via Roma a Serravalle Paese. Via Roma è quella strada che dall'arco sale su e si arriva in Paese. Diciamo anche il primo biglietto da visita per chi viene da fuori e viene a visitare Serravalle. Parlavamo prima del turismo che c'è stato questo grandissimo aumento anche dei pellegrini. Bene, oggi quel percorso è in condizioni di sicurezza precario, specialmente per quanto riguarda le balaustre, riguarda i rail che ci sono andando su a salire. Realizzeremo un marciapiede o un camminamento laterale di 1,40 m appunto per permettere un'agevole ascesa per chi viene a piedi e una nuova ringhiera a protezione della caduta dall'alto. Un'opera questa che può anche sembrare marginale ma in realtà diventa necessaria in quanto in assenza di vetture parcheggiate la ringhiera attuale non offre una adeguata protezione anche per un eventuale svio magari di un'autovettura oltre ad essere in più punti ammalorata, arrugginita e un intervento di manutenzione o di risistemazione dell'esistente verrebbe a costare quanto un intervento nuovo anche seppur semplice ma che dà comunque un'altra immagine a chi si incammina o parcheggia anche in quell'area per venire a Seravalle Paese. I rimanenti 70-100 mila euro verranno impegnati, vediamo, per la riqualificazione di piazza Sorghi a Masotti e per la riqualificazione del campetto al ponte di Seravalle per il quale abbiamo già pronto l'incarico compreso anche il campino attualmente da basket con il giardinetto lì delle mille luci di un progetto che possa dare a quelle tre aree il giusto interesse sociale e di aggregazione per i cittadini giovani e meno giovani. L'idea appunto è quella di realizzare luoghi non confinati a un esercizio sportivo convenzionato a società ma spazi di libera attività fisica e di relax appunto non confinati. Occorre specificare che parte delle somme dei capitoli che non siamo riusciti ad impegnare nel 2023 verranno adoperati per utilizzati per far fronte alle spese di somma urgenza che abbiamo deliberato ieri sera e quindi per questo impegno effettivo che comporterà anche un notevole lavoro di rendicontazione di dico queste cose perché può sembrare il fatto dice non c'è niente nel 2024 c'è una marea di cose e bisogna anche pensare che l'apparato l'ufficio non è una macchina da guerra tra l'altro abbiamo avuto un 2023 con delle carenze anche di personale dovute a pensionamenti, a maternità c'è un tecnico che ha vinto un concorso e se ne andrà e quindi per alcuni mesi rimarremo anche senza questo importante aiuto. I tecnici che c'erano si sono dovuti spesso ma qualcuno quasi a tempo pieno doversi occupare di questioni amministrative questo anche perché le regole il codice degli appalti tutto quello che viene messo in atto io a volte quando sento delle critiche anche così spassionate sui social io li vorrei far passare una giornata in questi uffici per capire le difficoltà le le i mille incagli che ci sono nel fare anche una piccola cosa purtroppo eh la semplificazione ecco se ci fossero i dieci comandamenti della politica io uno un comandamento sarebbe quello non parlare di semplificazione perché io ho vissuto in un ambiente pubblico per tutta la mia attività lavorativa e vi posso assicurare che non ho mai visto semplificare niente dopo ci saranno altri punti io stamattina ho perso una marea di tempo per capire di cosa si stava parlando ma si incrociano trenta decreti cento articoli è una cosa bestiale e chi deve stare dietro a tutte queste cose senza commettere errori è un grosso sacrificio perché l'ho detto altre volte il codice degli appalti tutto quello che riguarda il bilancio di cui parliamo stasera la corte dei conti che col fiato sul collo sembrano cose fatte non per agevolare chi è impegnato a a a a a dirimersi in queste cose ma sembrano fatte per scoprire il colpevole per trovare l'inganno per trovare e tutto questo comporta anche scelte difficili da parte dei funzionari o di chi è preposto a queste cose perché perché uno non è un burocrate uno è stato messo lì a far rispettare delle norme se tu gli dai delle norme così complicate è difficile poi muoversi su un crinale spesso scivoloso che da cui se cadi nessuno poi ti tende una mano per tirarti su questo vorrei fosse compreso da tutti ma forse bisogna aver lavorato in un ambiente pubblico come può essere un'amministrazione comunale o un ente regionale un ente provinciale per capire a fondo a fondo queste cose te barbasso penso che anche all'asile tu sappia di queste cose avremo poi altri 117 mila euro liquidati dal ministero con il decreto aiuti che all'approvazione appunto sempre del consuntivo rientreranno nel piano degli degli investimenti e in merito al milione e 35 mila euro pari al finanziamento per gli spogliatoi di calcio al campo barni a casal guidi sono stati mandati in avanzo di amministrazione e anche questi ritorneranno disponibili al momento dell'approvazione del consuntivo sul piano degli investimenti questo tempo ci permetterà visto anche l'approvazione di quella cartografia che purtroppo ieri sera non abbiamo potuto deliberare ma che è propedeutica al fatto di poter andare in gara con la nuova configurazione anche di quest'area sportiva e tutto di poterci lavorare e di concretizzare il progetto esecutivo e quindi di andare in gara se mi ci dice che il consultivo verrà a maggio complica anche questo tutta una serie di cose perché anche qui le gare va in gara prima di due mesi e mezzo la gara non esplode diciamo non viene messa a terra come si usa dire il risultato della gara non viene messa a terra quindi il nostro il nostro intento è quello di realizzare questo intervento entro entro l'anno nel contempo ci sarà da dedicare attenzione e lavoro alle appunto alle 21 perizie in atto dovuta all'evento alluvionale con tutto quello che vi dicevo perché c'è tutta la rendicontazione cose che se uno le segue da vicino diventa diventa matto ma che impegnano purtroppo i funzionari tutto il giorno dietro a queste piccole cose che piccole poi non sono c'è il discorso della pista d'atletica che anche quella dovrà andare a definizione nell'anno partiremo poi a primavera con il fosso di casale il fosso di san biagio e anche quello è una cosa che impegnerà notevolmente l'apparato perché si dovranno fare assemblee pubbliche sarà un lavoro nel cuore del paese e quindi che comporta estrema difficoltà realizzativa ma anche che comporterà mille questioni con i cittadini che dovremo in qualche modo derimere uno per uno e quindi impegnerà notevolmente notevolmente gli uffici partiremo a breve la gara credo che manchino pochi giorni alla provincia anche lì non aveva più ditte da inserire la gara per gli asfalti partiremo ora a febbraio marzo con tutta quella serie di opere di asfaltatura e su questa abbiamo anticipato anche molte cose che erano previste nel 2026 le abbiamo tirate dentro in questa fase e che comprenderanno varie zone del territorio ponte di seravalle seravalle masotti casal guidi e così poi c'è il discorso dell'efficientamento energetico con la sostituzione integrazione di tutta l'illuminazione a led anche questa secondo i programmi in atto da parte della società che si è fatta carico della proposta dovrebbe concretizzarsi entro l'estate e anche questa è una cosa che entro l'anno dovrebbe vedere tutta questa nuova realizzazione sempre per l'efficientamento energetico abbiamo un impegno di 70 mila euro del pnrr per il polo scolastico a casal guidi ci sono poi sempre in essere la realizzazione di una palestrina alle scuole medie a seravalle a masotti e la realizzazione di una scuola di infanzia anche questa a masotti ma su queste però se no quello che vi ho detto fino ad oggi fino ad ora è tutta roba riscontrabile effettiva e che andrà a soluzione per queste due cose stiamo cercando e c'è l'impegno da parte di tutta la giunta di tutto il nostro il nostro gruppo di poter addivenire ad un finanziamento che ci permetta anche di concretizzare queste cose i progetti ci sono già il fatto di avere i progetti in mano è una cosa è una cosa che secondo me importante perché dobbiamo modificare anche questo atteggiamento della ricorsa al bando per tutto che poi diventa anche difficilmente raggiungibile e passare ad una più capillare progettazione delle opere e per questa progettazione cercare i finanziamenti più facili da raggiungere per essere pronti per l'occasione ma tutto questo poi si incastra in quelle in quelle condizioni di rispetto del bilancio e diventa tutto sempre molto 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 difficile però questo è il nostro tentativo che vorremmo portare vorremmo portare in fondo quindi a chi giustamente può far rilevare che nel 2024 non è previsto niente come opere oltre 150 mila euro è uno di può fare questa strisciata e dire guarda che c'è più di un milione di roba anzi due che sono tutti progetti in essere e che se ci assiste anche se non ci sono altre crisi di carattere economico e sociale potrebbero e io spero perché gli uffici sono attenti e lavorano per questo di riuscire a portarli in fondo entro la fine dell'anno mi socia anch'io ai ringraziamenti a federica simoni che ci lascia che ho conosciuto da quando sono entrato qui mi emoziono anche a dire questa cosa sempre stata disponibile attenta questo è un patrimonio per l'ente e ben vengano figure professionali come la federica perché i comuni hanno bisogno anche di questo è finita l'era dove si assumeva eh per l'ottizzazione politica oggi se te tu assumi un nano e poi il nano assume un altro nano alla fine eh diventiamo un esercito di nani che non porterà a nessun beneficio eh sì è un po' eh chi regalava la matriosca con dentro la priva e c'era un altro c'era un altro c'era un altro diceva quando assumi qualcuno assumi uno più bravo di te perché se no se l'assume sempre uno peggiore arrivi in fondo e c'è un omino così che non porterà a niente grazie grazie Gargini eh allora dichiaro aperto il dibattito chi si vuole prenotare per la parola la parola Barbasso eh due due parole perché è stata molto la la relazione del Gorbi e del Gargini è stata molto ben strutturata se chiedono diciamo che dal punto di vista eh gestionale obiettivamente bisogna darne atto mi associo anch'io alla ragioneria per il lavoro che ho fatto ecco una cosa che che mi viene da pensare è che c'è di molta carne al fuoco ma basterà il carbone per portarne anche uno a fondo è quello che mi chiedo perché in definitiva l'ho detto anche altre volte l'interesse di credo di tutti noi sia quello di di migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini quindi eh dispiace che certe cose sdrittano ovviamente ci saranno motivi che eh voi sapete meglio di me ora il discorso sulla burocrazia eh è atavica in Italia è così perché non è che eh che posso dire no per avere le penne ci vuole essere messi sì che non è che poi è una cosa che che le penne sì che ormai ormai non ci sono più ora ci sono compiute però i primi anni che si andava con la macchina da scrivere mancava il nastrino perché ci vuole la la gara Cristo e Madonna insomma lasciamo perdere ormai sono tempi passati ecco io l'unica cosa naturalmente noi si può essere altro che critici su questo bilancio anche se si deve ammettere che è un bilancio abbastanza cospivo è che ecco speriamo che questi lavori portano avanti ecco ci sono certe cose come tipo la 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 pista di 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 atletica che secondo me eh non averla è un brutto è una brutta cosa insomma ecco non tanto per per noi che sono a una certa età e che quindi si va a piedi ma per i giovani insomma se si potesse almeno in in alcune eh interventi accelerare nel limite del possibile del dirio di Casalguidi adesso insomma vuol dire c'è questo tratto che l'altro giorno tu ci dicevi che prima di di primavera non inizieranno il lavoro il che è abbastanza triste vedere questa transennatura visto anche che io ci sto la cassa paterna materna lì a volte tutte le volte arrivo lì e mi raccolgo e devo tornare indietro perché devo passare di sopra insomma quindi diciamo ci sono alcune cose che secondo me anche per il bene del paese sarebbe nel limite possibile accelerare una cosa che noi ci teniamo a a dire che era di primo di primo impatto dopo l'alluvione eh noi vi si è proposto di vedere fra le pieghe del bilancio o qualche qualche scopo qualcosa d'aiuto per 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 gli gli alluvionati anche perché all'inizio sembrava una cosa tragica poi diciamo che piano piano si è visto che è sempre tragica la ossa però insomma eh come sempre eh un popolo lavoroso me siamo ci si rilizza anche abbastanza efficientemente da da soli lo dimostra il fatto che tu mi dicessi che solo sette domande che vuol dire che in definitiva io fu da me fu prima quindi io ribadisco se fosse se potete eh trovare anche mi pare c'è un articolo sul giornale del sindaco che diceva che troveremo qualcosa e eh eh ecco speriamo che siano cose che che possano diciamo allevare e tutte quelle diciamo problematiche se sono create o dall'alluvione grazie consigliere Barbasso eh sì 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 certo è aperto il dibattito tutti i consiglieri possano intervenire eh Benini eh buonasera bentornati intanto comincio subito dal ringraziamento alla dottoressa Federica Simoni io ho avuto il piacere di conoscere da poco in questa parte finale diciamo del suo lavoro nel comune di Seravalle però è bastato poco per capire che è una persona molto disponibile disponibile sempre pronta anche a rispondere in commissione non quando anche personalmente l'ho cercata anche forse a questioni banali o anche perché eh non mh avvezza della materia e quindi magari a volte anche con eh situazioni insomma diciamo difficili poi da rendere comprensibili a chi la materia non la mastica comunque sulla professionalità mh non ho mai avuto dubbi anche prima non conoscendola ma sicuramente con l'apprezzamento da sul piano personale è stato fin da subito quindi davvero un ringraziamento eh personale quindi ora che questo tempo nuovo lo possa colmare magari con tutto quello che lavorando si fa di fretta e e quindi davvero complimenti per questo traguardo raggiunto allora venendo invece a questa tre punti tutti insieme abbastanza corposi io mh allora intanto credo che la la discussione debba eh partire da una premessa eh sia eh cioè questi tre punti sono la vostra carta d'identità cioè qui dentro ci sta eh la parte progettuale l'idea e ci sta come intendete realizzare queste idee e quindi è un po' eh diciamo cioè la traduzione del vostro mandato elettorale poi nelle questioni pratiche che si trovano eh all'interno del mandato dell'amministrazione anche di quello che ci troviamo a a discutere sul quale ci confrontiamo in consiglio quindi è chiaro che la visione è una visione diversa ma è una visione diversa nel suo insieme io ne faccio un discorso generale poi se si scende nei particolari e si potesse votare eh questione per questione progetto per progetto intenzione per intenzione la posizione che avremmo sarebbe diversa perché hai eh sei chiamata a eh commentare confrontarti anche a votare su una questione eh precisa noi così dobbiamo esprimere un un voto perché non mi permetto di parlare certo di giudizi in quello che è un impianto generale quindi dentro ci sta tutto questa premessa la voglio fare perché in passato spesso c'è stato detto ah allora se avete votato in un certo modo vuol dire che siete contro no io apprezzo per esempio partendo dalla questione dei lavori quello che ha detto l'assessore che ben venga che si intervenga sui cimiteri perché sono luoghi di culto luoghi molto particolari forse oggi un po' meno frequentati eh dalle nuove generazioni ok però insomma questa è un'identità del nostro territorio di molte persone anche del comune che questi luoghi siano rispettati anche nella cura e quindi è buona cosa quindi come si potrebbe dire che non fate bene se spendete i soldi per fare un lavoro ai cimiteri così come se metti una balaustro rendi sicuro un camminamento il discorso che noi facciamo e l'analisi che facciamo è nel suo insieme e chiaramente qui si scende e mi rifaccio all'intervento del vice sindaco che ha parlato di due tipi di scelte giustamente ci sono scelte amministrative e quindi quelle eh sulle norme le leggi gli uffici eh è chiaro che tutto deve tornare e il bilancio è sempre tornato a Serravalle se no saremmo stati commissari anzi quando non è tornato forse è stato commissariato in passato quindi su questo sulla bontà dei conti che numeri alla mano tutto torna io credo che su questo nessuno possa mh disquisire ci sono poi però all'interno di questi numeri puri le scelte perché c'è la parte amministrativa come ha detto è la parte di scelte e lì la scelta è politica è divisione voi fate delle scelte noi ne avremmo fatte altre e quindi è lì è il che viene cioè il voto che noi esprimiamo viene in un ragionamento che sta all'interno di questa cornice perché non vogliamo ehm cadere ecco nella polemica eh ma siate sempre a puntare il dito non si fa ma bene di voi non siate ma contenti poi ecco il ragionamento vorrei fosse chiaro che è un ragionamento che sta dentro questa cornice poi eh così mh allora una domanda lei ha parlato ma ne abbiamo già parlato non voglio riaprire i capitoli che non c'entra non fanno bene a nessuno ci siamo già espressi per esempio per quanto riguarda le indennità lei ha detto arrivano i soldi dalla regione per i nidi gratis una misura che chiaramente arriva dalla regione è un'attenzione particolare non tutte le regioni ce l'hanno quindi questo gli va riconosciuto e quindi arrivano ai comuni dei soldi e chiaramente voi li destinate a quello nel caso dei eh i soldi che lo Stato dà per le indennità degli amministratori e guardate bene io sono dell'idea che chi amministra deve essere pagato cioè non pagato non è un lavoro però deve avere un riconoscimento perché al di là del fatto che ci piace fare politica siamo qui perché ci mettiamo a servizio del territorio dei cittadini e tutte le cose filosofiche ci possono stare dietro ci sono delle responsabilità lo vediamo anche quando parliamo a seconda di quello che dici e quindi voi che a maggior ragione amministrate anche soldi pubblici perché noi esprimiamo dei pareri voi poi i soldi li amministrate dal mandato ai cittadini vanno dato avete sicuramente delle responsabilità questo ci tengo a sottolineare non sono perché non veniate cioè non venga riconosciuto anche economicamente l'impegno chiedevo però in questo caso è un provvedimento amministrativo o di scelta cioè si potevano spendere tutti o si potevano fare scelte diverse per esempio se si tratta di scelte in questo caso noi avremmo fatto una scelta diversa modulandola arrivandoci per per dire no poi eh niente parlando un po ho sentito questo l'avete detto entrambi sia eh l'assessore Gargine Alessio che l'assessore Gorbi è chiaro che tutto deve essere contestualizzato ma questo da sempre cioè noi siamo qui a leggere il territorio di oggi e il momento storico che viviamo il Mungai aveva il patto di stabilità voi oggi avete altre cose però questo non deve essere né una scusa né una giustificazione io dobbiamo essere comprensivi chi vi è chi guarda da fuori né delle difficoltà del momento quelle che sono perché il patto di stabilità aveva messo gli amministratori di allora di fronte a un certo tipo di difficoltà che quindi hanno cercato di gestire al meglio poi per far meglio si può sempre però voglio credere che lo abbiano fatto con coscienza così come state lavorando voi siete convinti e difendete anche in questa sede e nell'esporre eh il DUP il bilancio la previsione il piano delle opere voi difendete le vostre scelte però ecco anche l'appello lei diceva assessore Gargini bisognerebbe aver lavorato in un'amministrazione io lo capisco questo l'ho capito dal primo giorno che ho messo piede qui dentro e mi sono resa conto che quando partecipavo a consigli e scrivevo per il terreno mi sembrava tutto molto facile trovarsi dentro e io ho una posizione lieve diciamo rispetto a voi cioè importante importante però importantissima non voglio sminuire il nostro ruolo né tanto meno il mio proprio lungi da me neanche per carattere quindi non lo fa però il senso è un altro è chiaro che il peso delle mie scelte qui dentro è diverso dalle vostre quindi è questo intendevo questo ecco questa comprensione credo che debba esserci sempre si debba avere tutti di fronte e ben chiaro le difficoltà e queste ci sono e voi cercate sicuramente di affrontarle al meglio poi dentro questi documenti ci sono scelte che un po' alcune condividiamo appoggiamo come ho detto altre che sinceramente ci lasciano un po' più di dubbio per esempio su alcune progettualità sul fatto per dire lei ha detto e l'abbiamo capito perché in più di un consiglio abbiamo parlato di ato dell'aumento delle tariffe di un aumento che non è voluto dall'amministrazione ma avviene però l'amministrazione qui può fare delle scelte per esempio trovare un modo per arrivare ad alleggerire un sostegno ai cittadini in un altro modo quindi così come più volte abbiamo chiesto riportato la nostra proposta di un fondo di solidarietà che poteva essere a sostegno del covid e della scia che il covid ha lasciato ora abbiamo anche in commissione lo abbiamo menzionato un fondo per aiutare le famiglie colpite dall'alluvione come abbiamo detto ieri sera nel migliore degli auspici dei pensieri riceveranno sicuramente qualcosa per far fronte a questa emergenza ma non sappiamo quando quindi per far fronte all'immediato ora in commissione abbiamo riaffrontato con il vice sindaco Corbi questa questione e lui alla mia specifica domanda ha risposto ma non possiamo se ho capito bene questo lo premetto che dice non possiamo sostituirci allo Stato sarà lui lo Stato la regione chi che c'è una calamità naturale che arriverà a dare e mi era sembrato di aver capito che il problema erano trovare i criteri ecco però io poi mi sono in battuta stamattina in un articolo del giornale dove il sindaco dichiara che i proventi dell'evento di Babbo Natale no io ti dico quello c'è scritto sul giornale lì c'era scritto i proventi infatti ma se mi fate finire il virgolettato era il sindaco dichiara che i proventi dell'evento Babbo Natale nell'elicottero saranno destinate agli alluvonati ora premesso che un giornalista può anche interpretare male le parole quello era un virgolettato siccome non ho visto una replica né la richiesta di una rettifica no no non ho chiesto non ho visto una rettifica da parte del sindaco quindi dopo è scontato e quel virgolettato era quello che lei ha detto quindi mi verrebbe da chiedere alla nostra proposta magari non avete la nostra proposta non ha trovato accoglimento perché un problema poteva essere il criterio ora mi chiedo questi proventi pochi o tanti che siano non lo so come è andata la manifestazione quanti proventi avete fatto per me poi sancun euro con quale criterio lei sindaco destinerà all'alluvionati per esempio questa è una cosa che in questo discorso generale può essere una scelta che noi in questo caso l'avremmo fatta in modo diverso quindi ecco poi niente ecco solo questo ovviamente il discorso degli spogliatoi alla palestra il problema della pista d'atletica questo è inutile sottolinearvi lo ha detto lei prima di noi credo che queste siano situazioni che prima si risolvono meglio è domani inauguriamo la palestra domani è un giorno di festa per il paese quindi lungi da me aprire né oggi né tanto meno domani da me ho detto io ho detto da me io sarò con grande piacere all'inaugurazione di questa palestra perché domani i cittadini si riappropriano di una struttura necessaria necessaria alla cittadinanza chi la frequenta e no perché quando si restituisce un bene così prezioso è a vantaggio di tutti poi bene le scuole che mi auguro da gennaio a rientro potranno andare lì e che la palestra riprenda il suo normale corso quindi cioè sappiamo tutti l'importanza di certe opere non voglio tornare sul fosso di via san biagio l'abbiamo detto anche ieri sera ritorniamo a sottolineare l'importanza di avere dei momenti di partecipazione entretutto lo avevate nel mandato sia precedente che questo cioè la partecipazione essere a contatto con i cittadini ecco questo è importante perché sarà un intervento massiccio che creerà molto disagio e quindi i cittadini doverosamente dovranno essere informati anche per tempo quindi le critiche che facciamo a questi tre punti così corposi sono questi però mi piace sottolineare che stanno dentro la cornice iniziale è un ragionamento generale poi ci sono tantissime cose anche elencate da entrambi che non possiamo che condividere vanno a favore dei cittadini poi ovviamente questo non è il programma che avremmo la carta di la nostra carta di identità non è questa è la vostra e quindi qui sta la differenza grazie benini ci sono altri interventi sindaco sì sì scusa secondo me è molto facile dire all'interno della cornice ci sono delle cose che io non farei che farei ma dimmi quali basta sapere quali sarebbero le cose che si leva piazza sorghi si leva il la pista atletica si leva gli spogliatoi cosa si deve le no perché l'ha visto io dico io farei quest'altro cosa perché non si sa non si sa per quanto riguardano i proventi non sono proventi ma sono donazioni le donazioni quando uno arrivava lì con l'elicottero con bambini con quello che era se uno voleva lasciava un euro due euro tre euro cinque euro quelle che sono sono una bella damigiana che era lì non ho visto nessuno di tanta gente che sbratera a bocca piena su social e quant'altro mettere un euro io non l'ho visto perché ci sono stata la sera lì è facile anche stare lì col telefonino in mano a dire sì certo è facile però a venire lì a mettere un euro nella damigiana non c'è venuto nessuno quindi quello che è venuto quello che verrà fuori non so quanto sarà uno due tre dieci cento euro che sono abbiamo aperto da e è stato anche pubblicizzato sul comitato sul conto corrente del comitato gemellaggi una raccolta fondi quindi chi voleva poteva c'era il conto corrente c'era tutto poteva dire lì ecco cento euro questo a favore del comitato del degli agli uvo nati quante persone hanno quando sarà allora tanto per capire ma c'è certo c'è il problema capito no bisogna poi bisognerà scegliere e capire come fare a discernere queste questi proventi queste donazioni quello che è venuto alle famiglie che hanno subito problemi l'acqua l'acqua in casa perché se ti ha avuto l'acqua nella cantina io non ti posso da niente perché nella cantina non ci si mette i divani non ci si mette le stufe non ci si mette davanti si mette le sedie si mette le macchine la lavatrice e cosa a pozzetto e concedere a pozzetto tutto il resto non ce lo puoi mettere nella regione e noi si può pagare perché si farebbe un falso quindi se c'è dei cittadini che ancora non hanno presentato le domande si invitano entro il 19 perché è stato spostato il termine dal 31 al 19 di gennaio a presentare queste domande ma no che alluvioni in casa non nella cantina nella cantina le macchine non penso che non le paga nessuno secondo me perché non ho visto che e quindi quello quello che c'è è una cantina sia un garage per dire quindi quindi la predisposizione per i problemi di alluvioni ci sono per quanto riguarda i preventi noi preventi dai le denazioni a favore degli illuminati durante l'elicotterista c'erano quindi non vedo io i problemi che li sono e ti ripeto è facile stare lì e dire no questo non si fa quest'altro non si fa a chi lo dico io che non fa piazza sorghi a masotti parliamo che che sono cinque o sei anni che che urlano che ha ragione ma vi fa anche sapere perché si è vinto anche una causa va bene che ci teneva 350 mila euro fermi lì perché il signor lenzi segretario comunale del comune di pistoia che tutti avevano una paura della madonna io non ho mai avuta ci aveva denunciato per via del tamoil del distributore e quant'altro che noi gli abbiamo imposto di fare dei lavori siamo andati in causa siamo andati in causa si è vinto però non si sapeva se si vinceva o no anche in consiglio di stato è stata accolta la nostra propria la nostra cosa è rifiuta dalla sua quindi sistema si sta cercando di lavorare bene sta cercando di lavorare per la gente per il territorio quindi quello che le opere che ha presentato l'assessore gargini e bilancio di federico secondo me sono delle ottime cose quindi non vedo io la cornice quale sia da da modificare grazie e grazie federica grazie sindaco se prenotato bruschi se assessore bruschi la parola presidente che devo dire sono davvero io veramente sono orgoglioso di far parte di una giunta così perché vedo che ci sono davvero delle persone preparate su tutti questi argomenti che sono importantissimi davvero per mandare avanti un comune che ritengo sia amministrato benissimo questa è la mia opinione ovviamente ma anche il lavoro dei consiglieri di tutti sia di maggioranza che di opposizione io credo che sia un consiglio questo qui un mandato di persone competenti da ambo i lati e questo credo che sia anche una risposta a quella che diceva barbasso questi lavori poi verranno fatti sono tanti a me mi piacciono perché vanno a coprire tante zone non sono grandi opere ma sono piccole grandi opere e credo che sta a noi che siamo tutti qui perché ognuno con il suo ruolo da consigliere da assessore ma sono poi tutti i consiglieri comunali eletti da cittadini sta a noi poi vigilare su quello che verrà fatto se ci sarà qualcosa è il nostro compito vostro ma anche il mio in particolare di segnalare all'assessore o agli uffici se ci sono delle mancanze o dei ritardi e si chiederà informazioni su come mai credo che poi il succo sia tutto lì però davvero voglio veramente ringraziare tutta la giunta e in questo caso in particolare due assessori a lavori pubblici e al bilancio per questa cosa mi unisco ma l'avevo già detto prima alla simoni e voglio ricordare che prima si parlava dei giovani del nostro comune ma devo dire che in questi anni sono andati via dei personaggi del nostro comune molto interessanti che l'hanno mandato avanti per anni fin da quando io ero ragazzetto mi ricordo di paolo ricci e claudio nardi e quindi credo che l'applauso sia meritato per tutti grazie ci sono altri interventi allora se non ci sono interventi prima di restituire si prenotati la pietra alla parola buonasera allora vano perché comunque ringraziamenti alla dottoressa simoni sono stati ampiamente espressi devo dire una cosa tutte le volte che abbiamo ci siamo incontrati io sono venuta via imparando qualcosa quindi vuol dire che la professionalità e l'umiltà anche è basilare per trasferire i vari concetti perché è un argomento complicatissimo e questo lo voglio dire un po' anche a chi ci potrebbe ascoltare anche a tutti noi mi sto addentrando nella materia è complicatissimo e difficilissimo ci sono tanti vincoli che però questa amministrazione a mio avviso ha sempre saputo comunque mantenere alto il livello di applicazione di ogni regolamento cercando di ottenere i migliori risultati e qui dico i migliori risultati si può fare sempre meglio ma mi sono resa conto e ora qui non vado a fare tanti elenchi ok che già arrivare a un sufficiente risultato è stato un successo specialmente negli ultimi anni per le situazioni per le situazioni che siamo dovuti andare ad incontrare ringrazio ancora è stato un onore però una parola una parola per la Valentina allora sì perché comunque faccio tanti auguri anche alla Valentina di fatti l'impressione che era un'ottima squadra un'ottima equip ok sono state delle belle parole sicuramente tocca a te grazie L'avevo intuito e ho iniziato, è stato, si vede, si vede. Poi comunque sia, dovremo anche conoscerci. Conosco un pochino di più. Va bene. Brevemente, ringrazio comunque tutta la giunta perché siamo arrivati comunque ad oggi, avendo superato tante difficoltà. E viva la palestra, posso dire? Oh vai, lo posso dire. Qualcuno mi dirà, ma te non sai di che cosa parli? Sì, ebbene sì, sono tutti bravi i leoni da tastiera. Perché ce n'è parecchi da queste parti? È stato difficile, lo so, non riuscirei neanche a raccontare tutte le difficoltà perché non le ho vissute direttamente, ci mancherebbe. Però ho visto della tristezza qualche volta e della disperazione negli occhi di qualcuno. Comunque, evviva. Io ritengo che l'ultimo argomento del bilancio, e io sono una persona ignorantissima, però voglio dire la mia. Allora, è un bilancio redatto con una regola del buon padre di famiglia, molto cauto, molto prudenziale, scusate, ho sbagliato la parola. Ed è questo che si deve fare, oggi come oggi, anche perché le sorprese, e non sono mai positive, sono sempre dietro l'angolo. Per i cittadini io credo che è stato fatto quello che il meglio si poteva fare in queste condizioni. Certo, ripeto, si poteva fare di meglio? Sì, certo, ci mancherebbe. Da tutte le parti, non piovano soldi dal cielo. E tutte le esigenze, tutti i servizi, tutto. Quando ci si alza la mattina, signori, siamo legati tutti a un punto. Il migliorare la nostra situazione, sicuramente, ma servano soldi. Io sono una di quelle pratiche. I soldi, purtroppo, devono essere sudati. I cittadini devono pagare le loro tasse, ci mancherebbe. È sempre più difficile, ma banalmente non sono state aumentate negli ultimi periodi imposte in modo sgradevole. Anzi, non sono state aumentate, scusate, l'Imo in particolare. Poi, certo, il passo carrabile, che non lo pagava, per rispetto di chi l'ha pagato, per rispetto di quelli che l'hanno pagato, si sono dovuti mettere in regola. Poi, un'altra cosa. Questa amministrazione è riuscita a non indebitarsi ulteriormente? Se sbaglio, correggetemi, perché mi va benissimo anche davanti a tutti. Cioè, non accendere degli ulteriori mutui per me è una cosa non positiva di più, perché poi il piano d'ammortamento va a spese correnti e questi mutui non finiscono mai. Poi, è necessario prendere, per fare delle opere nuove, un'opera che va avanti decine e decine di anni, si può prendere un mutuo che vale, che magari lo vai a estinguere nella metà del tempo della vita di quell'intervento. Questo lo penso io, prendere un mutuo per un intervento che poi finisce la sua opera e poi magari se tu devi ancora pagare il mutuo non mi sembra troppo regola da buon padre di famiglia. Il piano delle opere. Allora, nel 2024 non ci saranno opere importanti. Allora, io presumo che, banalmente, stupidamente, voglio fare un po' la donna anch'io ogni tanto, perché vivo in un mondo di uomini, ok? Allora, se una donna si va a comprare un bell'abito, si deve comprare anche gli accessori belli. E a questo punto bisogna stare attenti un po' agli accessori, quindi alle rifiniture che costano un pochino meno. Dopodiché andremo comunque, e non è semplice, perché comunque mi sembra che per fare un muretto di due metri ci voglia un anno, quindi vedremo quali sono le esigenze, ovviamente per un muretto ci sono capitoli apposta, ci mancherebbe altro. Per le opere un pochino più importanti abbiamo bisogno di un pochino più di tempo, anche perché, si diceva ieri sera, è molto complicato essere dietro a questi banchi. I cittadini che ci vengano a dire ai, oi o pio, non si ne lo immaginano. Io qualche volta cerco di esternarlo, di spiegarlo, ma non se lo immaginano. Tutti bravi a parlare, poi da quest'altra parte si sta molto zitti qualche volta, perché non ci sono le possibilità o i tempi da regolamenti, da tempi di legge, bandi, eccetera, eccetera, di poter realizzare una cosa in breve tempo. Poi sono difficili le scelte. Le scelte, la nostra carta d'identità. La nostra carta d'identità è basata, sì, su delle idee che possono essere diverse. Io, sapete cosa? Penso che non sia tanto, tanto così. Noi siamo qui perché vogliamo bene al nostro territorio, perché lo vogliamo migliorare. Il nostro territorio si deve sviluppare, che poi io posso svilupparlo con una siepe o con un albero, con una strada o con un altro. sempre sviluppo è, certo che ognuno di noi abbiamo dei gusti e delle teorie diverse per arrivare a uno scopo. Io posso arrivare, posso passare da una via e altri da un altro, ma sempre, indiscutibilmente, è lo sviluppo del territorio. Con questo io vi saluto, vi faccio gli auguri per un anno. come questo? No, vero. Ok, comunque auguri ancora. Valentina, auguri e un abbraccio grande alla Simone. Grazie, Patrice. Grazie a tutti. se volete un microfono mi fa parlare bene scusatemi ma bisogna vi ascolterei volentieri se volete vi do il microfono almeno rientrate nel consiglio comunale ma non per interrompervi perché comunque vorrei aggiungere anche un'altra cosa che per quanto riguarda Federica Simoni ma anche per Valentina credo che trovare persone competenti che siano anche delle brave persone non è scontato perché c'è qualcuno che fa bene il suo lavoro però poi magari negli atteggiamenti o nel rapporto con le persone non è molto diciamo invece questo non è il caso vostro e quindi non è scontato trovare delle persone professionali che sanno fare il suo lavoro e anche delle brave persone doveva aggiungere questo ora Agostini ha chiesto la parola quindi do la parola a Stefano Agostini sì io vorrei semplicemente dire due cose rispetto agli interventi che ci sono stati ma credo che l'intervento che ha fatto Caterina e la minoranza in realtà hanno indicato una serie di divisioni diverse su questioni marginali del bilancio non sulle questioni di sostanza per cui non ci vedo in quelle cose che hanno detto loro grandi motivazioni per un voto contrario mi sembrano veramente a volte cose anche pretestuose e basta questa è l'impressione dal di fuori per cui io direi che insomma se arrivino c'è bisogno di avere delle proposte se ci sono delle proposte alternative se ci sono delle cose importanti e interessanti da mettere in campo che ci servono anche per una riflessione per il governo dell'amministrazione non vi peritate a farle però dirci che si deve da soldi dagli alluvionati sono quasi banalità non entrano nel merito di quello che è la sostanza del bilancio e delle scelte noi questi sono bilanci travagliati noi li abbiamo discussi non siamo neanche contenti si vorrebbe fare di più siamo anche diciamo veramente quasi mortificati di non essere riusciti a fare di più e si vorrebbe cercare di fare di più con questo spirito secondo me va affrontato la questione del bilancio che è l'atto programmatico principale e fondamentale per un'amministrazione per cui si ha bisogno di aiuto anche per svilupparlo questo è il po' il senso di questa cosa per cui oltre al doveroso ringraziamento per gli uffici per il lavoro che hanno fatto io devo dire che bisogna che anche la minoranza ci aiuti a formulare delle proposte alternative serie che le tre cose che sono state dette mi dispiace dirlo ma sono cose risimili rispetto al corpo del bilancio che fanno pensare che è un'opposizione veramente strumentale ma non è vera voglio dire né poi né meriti né nelle sostanze io lo dico perché è un elemento di critica che mi sento di fare e spero che serva per le eventuali future manifestazioni grazie grazie Stefano ci sono altre prenotazioni l'intervento se non ci sono prima di dare la parola conclusiva agli assessori per le risposte vorrei fare un intervento anch'io praticamente è stato detto dai miei colleghi consiglieri è stato detto tanto su questo bilancio io credo una cosa che il bilancio è lo strumento diciamo che riguarda tutti gli assessorati della giunta no? perché nel bilancio ci stanno diciamo tutti i capitoli che poi vanno a soddisfare le esigenze dell'azione va bene che promuove l'assessore di competenza credo avendo fatto l'assessore nei cinque anni passati che sia una cosa molto di responsabilità questa perché comunque vengono prese delle decisioni in base a a delle diciamo così passatemi il termine a delle visioni che una persona ha del suo territorio e di quell'area magari che deve portare avanti naturalmente poi la giunta si confronta e può dare anche delle indicazioni a un assessore singolo sulle diciamo sulle dinamiche che vuole portare avanti io credo che un assessore non debba né peccare di troppo amore per il territorio non debba scusatemi non un assessore una un'amministrazione vorrei essere un po' più concreto un assessore un'amministrazione non deve peccare né di troppo amore ma deve comunque saper cercare di avere una visione non limitata e questo discorso guardate l'ho fatto quando io stavo nei banchi dell'opposizione ve lo dico lo facevo al bilancio quando stavo a banchi dell'opposizione non si può pensare di governare un paese limitandoci a guardare quello che c'è domani ma dobbiamo immaginare quello che c'è tra un mese tra due mesi tra tre mesi tra un anno ok e quello di immaginare quello che c'è sarebbe meno facile sbagliare guardando quello che c'è domani e sicuramente quello che c'è domani riesco a farlo e riesco a comprenderlo ma non riuscirò mai a stare al passo va bene non riuscirò mai a stare al passo della cittadinanza ricordatevi quello che diceva prima l'assessore Gargini che riguardo a tutti questi meccanismi di semplificazione di queste cose che comunque questa burocrazia che come diceva il consigliere Valbasso aumentano allungano i tempi di ogni cosa che un'amministrazione sta facendo non è altro non è altro che la macchina della politica va bene che segue l'avanzare della cittadinanza perché la cittadinanza va molto più veloce della macchina della macchina politica che amministra non sto parlando del comune basta sto parlando delle regioni sto parlando del nazionale sto parlando a tutti i livelli e questo non è semplice io credo che noi abbiamo avuto un grande coraggio va bene un grande coraggio avere delle visioni diciamo non limitate a sistemare potrei fare un esempio e non voglio per niente entrare in polemica o quant'altro ma la palestra come diceva l'assessore Gargini ma anche il vice sindaco è stato un esempio di questa cosa qui perché noi si poteva fare il tetto dopo tre mesi può darsi che ci fosse la palestra senza acqua che non ci pioveva più e poi magari dopo un anno due o tre c'era da spenderci degli altri soldi è questo noi abbiamo avuto un coraggio che probabilmente ci ha portato a avere dei tempi allungati avere delle critiche forti a avere delle persone che ci hanno fortemente contrastato va bene ma i risultati non si vedranno subito domani magari si vedrà il taglio del nastro ma i risultati di quello che abbiamo fatto lo vedremo negli anni e il bilancio che noi facciamo è fatto su queste cose qui è una costruzione cioè sarebbe facile uno in carica la dottoressa Simoni dice mi fai quadrare il bilancio per piacere con numeri la Simoni magari invece di metterci tre mesi per fare un bilancio di previsione confrontandosi con tutti gli assessori con tutti gli uffici con tutti i funzionari e con tutto il comune va bene avrebbe fatto un bilancio come gli sembrava meglio a lei i numeri tornavano e andava bene a tutti e magari quello che c'era da sistemare domani potrebbe essere anche sistemato subito ma è la visione ragazzi io lo dico veramente fare politica significa immaginarsi quello che dovrà accadere perché quello che è già accaduto si sistema quello che è già accaduto si sistema è accaduto e lo sistema poi come bene male quello lo giudicheranno lo dico sempre io quando qualcuno mi fa delle contestazioni se abbiamo lavorato bene o male lo giudicano i cittadini non chi scrive su facebook quando si va a votare quando si andrà a votare i cittadini diranno l'amministrazione Lunardi ha fatto un ottimo lavoro oppure diranno l'amministrazione Lunardi non ha fatto un ottimo lavoro noi crediamo di aver lavorato con senso di responsabilità in modo da aver fatto un ottimo lavoro questo è il mio senso personale della politica l'ho sempre detto e ve l'ho detto questo discorso che ho fatto oggi chi era con me su banchi del consiglio lo può dire lo facevo al Mungai e al Mungai il solito discorso quindi la politica può essere vista in tanti modi va bene ma da ultimo si è vero che ci sanno delle visioni diverse e politicamente politicamente per chi rappresenta dei partiti è scomodo votare un bilancio anche se sembra fatto bene perché per votarlo o no Caterina basterebbe che tu facessi la valutazione se sono più le cose giuste o più le cose sbagliate perché se sono più le cose giuste tu dovresti votare a favore se sono più le cose sbagliate no capito però è questa la valutazione il senso della politica è questo però la politica impone la politica impone la politica impone impone da avere delle idee diverse di fondo va bene che sottopongono me compreso quando stavo nei banchi dell'opposizione a fare delle valutazioni globali come hai detto generali va bene però no 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 non è vero io non ho votato i bilanci quando era l'opposizione perché non erano i miei bilanci non rispecchiavano ma quello che tu ha detto te ti sto dicendo che è giusto però te non hai detto questo te hai detto che ci sono tante cose fatte bene bene comunque comunque no no è giusto no no è giusto è giusto benissimo benissimo io concludo dicendo che ringrazio tutta l'amministrazione la giunta per aver fatto questo lavoro che per me è un buon lavoro è un lavoro è stato fatto diciamo anche in termini abbastanza di velocità perché come diceva prima il vice sindaco Gorbi per la prima volta siamo riusciti a fare il bilancio nei termini di legge quelli cioè sempre nei termini di legge consentiti però senza proroghe diciamo diciamo com'è do la parola al prima Alessio ok bene Gargini Alessio alla parola via allora intanto ringrazio i colleghi del gruppo per le loro espressioni di apprezzamento su quello che è ma tanto c'eravamo già visti e c'eravamo già confrontati su questo e quindi non è una novità anche se fa piacere constatarlo nel momento del topico dell'approvazione quello di stasera le critiche io non starei tanto a passatemi il termine a infierire sulla opposizione ho stato più di vent'anni su queste sedie e quando si arrivava al bilancio era sempre un dramma per me che innanzitutto non era il mio campo va bene dove sono abituato a giocare come se fossi io sono un alla destra e mi ritrovavo a fare il terzino sinistro nel commentare il bilancio ero sempre in difficoltà anche se poi alla fine hai citato tu la frase quella di tutte le frasi dice non è il mio bilancio non sono le previsioni che io avevo nel programma elettorale che avevo e quindi il mio voto non può essere favorevole ma per dire questo si doveva dire anche qualcos'altro allora si era sempre alla ricerca di quei punti che proprio non condividevamo o per posizione politica o perché erano veramente sbagliati e su quelli ci evidenziamo quelli senza entrare però nel merito di tutto il meccanismo che era sempre molto difficile altra cosa è il bilancio consuntivo dove a volte ricordo aver votato anch'io con un voto di astensione perché era una sommatoria di numeri e un elenco delle opere programmate realizzate durante l'anno e quando questo tornava non c'era motivo di votare contro non è che uno poteva dire non è il mio percorso di bilancio consuntivo è una cosa che si può anche fare quando torna tutto qui come vi ripeto sembra quella parte bianca la fai vedere a un funzionario che deve venire a lavorare a Serravalle mi fa vedere il piano triennale diceva qui non c'è nulla qui non c'è nulla vengo subito firma poi si ritrova quelle firme tipo davvero l'altra sera il firme Wonka che quando arriva nell'alloggio che firma il contrattino di rimanere lì firma l'ultima pagina e poi fra l'ultima e la prima c'era una fisarmonica di clausole un po' come nelle assicurazioni quando si firma dove magari lì c'è la sostanza c'è la sostanza ma è come in questo caso qui c'è la sostanza qui ci sono quasi 5 milioni di intervento fra opere che continuano dalla legislatura passata o dall'anno scorso che proseguono in quest'anno e che io mi auguro che possano andare tutte a conclusione ma sono 5 milioni di euro di opere poi si può discutere non sono le mie opere ci sono stati dei ritardi credo che per quanto riguarda forse di San Biato sia stata fatta un'operazione fatemelo dire magnifica per come siamo arrivati e per come ci eravamo ritrovati è chiaro che quell'intervento lo abbiamo detto cento volte non può essere fatto in questo periodo invernale è previsto per la primavera e per la primavera vedremo se riusciremo a trovare tutte quelle soluzioni di difficoltà di disagio a risolverle che potranno venire dai cittadini la pista d'atletica è vero fosse stato un mio funzionario aver progettato certe cose mi sarei arrabbiato ma come non ha previsto questo 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 e questo purtroppo si danno gli incarichi e non sempre anche se si danno incarichi a figure professionali alte e spesso ci si ritrova in situazioni nelle quali non ci si sarebbe voluti ritrovare ma parlo sto parlando di Renzo Piano o di persone però questo capita in tutte in tutte le realizzazioni le progettazioni di opere pubbliche un esempio ne è il Viola Parche della Fiorentina a Firenze dove c'è un privato il presidente commisso che incarica uno dei massimi architetti presenti va bene sul territorio addirittura con altri personaggi non voglio fare nomi sennò poi non voglio essere facciato che fanno le norme che fanno le norme e che si ritrovano nelle condizioni come ci siamo ritrovati noi con la palestra dove un privato certo non butta via neanche un euro in più di quello che ha previsto con i costi raddoppiati con i tempi di inaugurazione raddoppiati e siamo di fronte a un privato che si muove con molta più elasticità di quanto si può muovere un'amministrazione pubblica quindi quando ho detto che bisognerebbe non mi riferivo certamente ai presenti o quantomeno va bene se c'è qualcuno che si sente in difetto su questo ma mi riferisco alla violenza a volte della critica che ormai non ha più freni sui social dove tutto si può dire dove non c'è filtri di nessun tipo dove si fuma di tutto si fuma di tutto e oltre alle sigarette si fuma si fuma i sonali come si diceva una volta ormai non c'è più limite a niente non c'è filtri e si dice anche cose che poi quando ti colpiscono direttamente fanno anche male perché non puoi metterti lì a spiegare sui social come stanno veramente le cose e nessuno ti telefona per chiederti come sono andate le cose o che ti chiedono un'audizione almeno a me personalmente per dire guarda adesso mi spiega un po' questa cosa no via 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 che ti devo dire la pista atletica tu hai perfettamente ragione la finiremo in quest'anno tra l'altro non abbiamo fatto comunicazione non abbiamo detto nulla si è inserito anche l'impianto di legazione al campo che non era previsto tanto per eppure non l'abbiamo detto ora dico stasera come dirai ma te lo dici ora va bene abbiamo inserito anche una cosa in più bene per rendere quell'area quella zona che poi con i campi con gli spogliatoi assumerà tutto un altro aspetto è un decoro che attualmente non ha non ha ma è questa è la concretezza delle cose che abbiamo individuato i cimiteri tutti i cimiteri del comune non quello di Sera Valle e Bassa Casalguiti la Castellina Vinacciano perché siamo siamo un territorio ormai dove non c'è più una cosa sola noi ci sta doppio di tutto e a volte quadruco come in questo caso tutti l'abbiamo individuato perché preferiamo risolvere una questione invece di risolvere non sono accessori Patrizia sono 5 milioni di interventi lo sai vestiti si compra non c'è più no 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 ma per dire è tanta roba nelle pieghe non entro ci entrerà si ma c'è degli accessori di nulla dall'altro se tutto va bene c'è anche quella insomma l'avvento di una una casa di moda top a livello nazionale a livello internazionale che a proposito di accessori mi è venuto in mente proprio che anche questa è una cosa che rivoluzionerà in qualche modo è guardate è un tourbillon che io mi auguro che tutte possano andare possano andare a buon fine quindi mi riferisco ora a te Caterina non ti devi arrampicare vai pure libera dici pure che non è il il programma il programma vostro noi non ti non devi cercare grandi grandi giustificazioni noi ve l'ho detto si poteva anche stupirvi con effetti speciali buttare là fare un mutuo si fa la scuola si parte subito ci sei il progetto domani si parte c'è i soldi accantonati c'è il mutuo da 600 dobbiamo vendere degli immobili vediamo se ci si rientra e si parte il progetto e poi ci si può pensare un attimo un milione e sette se è possibile risparmiare qualcosa e metterli da altre parti ma non perché si vuol buttare a monte quel tipo di intervento perché quel tipo di intervento a ragione veduta è superiore a ciò di cui quell'edificio scolastico ha bisogno quindi concretezza su quello che si è individuato i mutui li potevano prendere in vent'anni finivano nel 2044 quando finiscono tutti i mutui che sono stati accesi nel passato non voglio andare oltre perché credo di aver risposto alle tre cose alle tre cose che erano state erano state ah il rio di San Biagio il rio di San Biagio purtroppo prima della primavera non si può partire si poteva anche prima c'è i sottoservizi da sistemare quelli che stanno facendo ora appena sistemati quelli a primavera si partirà con l'intervento vero e proprio se no bisognava procedere settimanalmente chiedendo l'autorizzazione a giugno civile tutte le settimane con il meteo in mano vedere quando si può un troiaio se l'ha detto si parte a aprile grande grande eh finalizzazione di una una situazione compromessa che in qualche modo pensiamo di aver risolto in maniera molto molto brillante per il resto non ho da dire altro e niente alla Valentina ormai se no si fa complimenti ma non mi vorrei associare continuamente se no diventa una storia questa qui benvenuta nel campo minato del bilancio spero che la Simoni la Federica ti abbia lasciato una mappa per sapere dove mettere i piedi grazie si lo so purtroppo e cambiano continuamente grazie Assessore Gargini la parola al Vice Sindaco Gorbi grazie giusto due parole per ringraziare il Consiglio Comunale del dibattito non mi sorprende il gioco delle parti voglio dire si sa che io ho fatto sette anni sei anni e mezzo sette che sono Vice Sindaco prima ho fatto cinque anni di minoranza e per essere onesti quattro volte ho votato contro e una volta mi sono astenuto sul bilancio del Sindaco Ungai forse qualcuno se lo ricorderà non a favore ma l'astensione diciamo quindi non ho per forza seguito il cliché diciamo sì della minoranza ma non è una critica ripeto riconosco che il gioco delle parti richiede anche se no altrimenti si sarebbe una maggioranza unica non ci sarebbero le liste quando ci si candida al consiglio io però voglio sottolineare un aspetto è stato detto sono orgoglioso di far parte di questa maggioranza Bruschi no guardate che è un'affermazione che raramente si sente nei consigli comunali perché non l'ha detto perché è uno spot elettorale si vota tra tanti anni quindi non ce ne frega niente anzi nel 24 mi sembra non siano sì c'è gli europei ma insomma non ci riguardano il parte da un aspetto quello che si è sempre detto non a caso ci si chiama uniti per Serravalle uniti perché non siamo una osa sola siamo diversi sa sensibilità diverse sa storie diverse chi ha fatto politica chi non l'ha fatta chi è civico chi è iscritto a un partito chi si era sempre occupato un pochino d'amministrazione da interno da esterno chi invece la guardava un po' da lontano sono storie diverse ma a un certo punto ci si unisce perché c'è un obiettivo o più obiettivi e quindi l'orgoglio nasce dal senso di responsabilità che questa componente queste persone che siedono io ci voglio mettere anche la minoranza all'interno del consiglio dalla responsabilità del fatto che comunque tutti si vuol bene ai nostri paesi al nostro territorio al nostro comune e quindi si cerca sempre il meglio per noi per le nostre famiglie per i nostri amici per i nostri figli per i nostri vicini di casa però poi bisogna essere la responsabilità richiede anche concretezza e allora bisogna dire cosa si vuol fare cioè io do per scontato che qualunque cittadino voglia bene al comune di Serravalle poi però mi deve dire quali sono le idee non mi rivolgo a voi minoranze non mi rivolgo alla maggioranza mi rivolgo a tutti quei cittadini che sono attenti alle cose del comune diciamo così quelli che scrivono su facebook quelli che commentano al bar quelli che leggono gli articoli sul giornale e ne parlano in casa quelli che ci seguono magari in streaming durante la seduta del consiglio comunale quelle persone si interessano un po' di più diciamo così e da loro io mi aspetto sempre un contributo concreto perché è la responsabilità che deve portare il contributo concreto e allora se dovessi riassumere a un marziano che arriva sulla terra questi sette anni di consiglio io ricordo queste critiche poi correggetemi se me ne sono dimenticato qualcuno l'asilo il nuovo nido il mago berlino non andava costruito un via fucini perché è una zona alluvionale e perché non ci sono i parcheggi noi l'abbiamo fatto è un anno e mezzo è aperto non ho mai visto una coda o una macchina parcheggiata fuori posto e l'asilo non si è mai allagato perché qualcuno l'ha scritto anche ora il 2 novembre l'asilo è allagato non ce lo raccontano non c'era entrata una goccia d'acqua tra l'altro le precedenti amministrazioni lì non è che ci avessero un aeroporto ci avevano una scuola che era nella stessa zona con gli stessi problemi di parcheggio ammesse siano problemi visto che c'è una piazza con 102 posti auto a disposizione e con gli stessi rischi alluvionali perché i fossi tombati erano tombati anche prima quindi voglio dire se avessero allagato il paese andava a rischio invece che il mago berlino la scuola elementare cucini capito quindi quando sento queste critiche dico sì ma qual è la ricetta alternativa allora la ricetta alternativa qualcuno dice no lì bisogna fare un bel parcheggio e costruire la scuola in area scolastica bene allora usavamo tanto territorio andavamo a occupare un bel terreno e metterci sopra una scuola e qui non è che recuperavamo del verde ma recuperavamo un parcheggio accanto a un altro parcheggio che non mi pare di vedere salvo il giorno di mercato che voglio dire qualunque paese al mondo quando c'è il mercato un po' di parcheggi mancano di vedere che mancano così tanti parcheggi nel nostro paese perché io la piazza salvo quando c'è il funerale della persona conosciutissima è sempre mezza vuota poi è chiaro che ci sono quelle occasioni dice per la fiera non c'è parcheggi vabbè andate a Pistoia per il blues andate a Lucca per il comics si diceva prima o per il summer festival cioè quando c'è qualcosa è chiaro che i parcheggi mancano ovunque non esiste la spianata di parcheggi che poi non servono a nulla magari 360 giorni l'anno e per 5 giorni l'anno faccio 1000 posti auto quindi l'altra critica sempre raccontando dal marziano dice la palestra non andava fatta ristrutturata andava costruita nuova di nuovo uso del territorio perché poi qual era la soluzione vendere l'immobile palestra attuale o vecchia mettiamola così per farne una nuova a parte il fatto che nessuno mi ha mai spiegato quando si vendeva quella vecchia dove si tenevano i bambini per 4 anni finché non era pronta quella nuova o 3 anni o 2 anni oppure si pensava di prima di costruire quella nuova con quali risorse punto interrogativo e poi di vende quella vecchia perché per costruire mi risulta Gargini che le ditte vogliano essere pagate non c'hanno questa cosa qui per cui dice prima andava pagato quella nuova quando era pronta dice ora si vende quella vecchia ammesso di trovare il compratore perché se si fosse trovato il compratore a quest'ora si era venduto anche Montaletto per esempio capito cioè non è così semplice trovare uno e arriva lo soldo in mano e dice si si lo compro io non c'è problema stiamo parlando di immobili un po' impegnativi una cosa un imprenditore che comprava la palestra per farci il che il supermercato accanto a un altro supermercato un centro medico cioè la comprava a quanto non è che si può svendere noi noi siamo obbligati a vendere secondo i prezzi omi stabiliti dall'agenzia delle entrate e compagnia bella cioè il prezzo corretto anzi meglio un euro in più del valore di mercato meglio un euro in più e quindi quello che comprava avrebbe dovuto comprare poi trasformare ristrutturare farci quello che preferiva bene questa era un'altra critica che ho sentito in questi sette anni altre cose che ho sentito o che non ho sentito ripeto non dalla minoranza da tutti quelli che amano la politica quelli che scrivano tutti i giorni il livello dei servizi del comune di Serravalle piace o non piace? cioè piace che ci sia lo scuolabus piuttosto che la mensa piuttosto che tutto quello che fa l'amministrazione comunale all'interno del palazzo comunale l'assistenza ai portatori identica l'assistenza agli anziani l'assistenza alle fasce deboli della popolazione parlo deboli dal punto di vista reddituale piace o non piace? perché allora se non piace voglio sentire la proposta di come si potrebbe migliorare poi siccome per migliorare mi hanno insegnato di nuovo che ci vuole dei soldi bisognerebbe sapere da dove si prendono i soldi cioè io da tutta questa gente vorrei sapere qual è la soluzione alternativa ripeto non dalla minoranza da chiunque ami la politica allora la soluzione alternativa sulla palestra la soluzione alternativa sul Mago Berlino la soluzione alternativa sui servizi prima si parlava dell'imposta di soggiorno bisogna aumentare il turismo ma non si vuole l'imposta di soggiorno allora dimmi dove trovo le risorse per aumentare il turismo a me mi va bene se c'è la soluzione magica che uno mi dice che si va ora a comprare un Gratta e vinci e si vince un milione di euro e si buttano nel turismo ma mi dà la garanzia e si vuole un milione di euro per buttarli nel turismo io che ha vinto lui a parte che non lo può fare il comune di comprare Gratta e vinci ma insomma se trovo una soluzione per finanziare le politiche del turismo in qualche maniera diversa e così via potrei continuare su tanti altri argomenti e si parlava per esempio del sostegno ai cittadini per l'Atari questo comune già lo fa noi si sostiene sull'Atari le fasce deboli dal punto di vista rettentuale e dal punto di vista dell'età e più si sostiene totalmente coloro che abitano in raggio d'azione della discarica di posto del cassero dimenticandoci sempre una cosa che è un atto giusto ma non è un atto dovuto perché l'impianto del fosso del cassero non è un impianto pubblico è un impianto privato e noi si è fatto addirittura per viagioni gas fino a che c'è stato no? perché era un'area a rischio ma sono impianti privati cioè di fronte a un business privato noi diamo un'agevolazione pubblica ma quei vado a memoria correggetemi 32 mila euro che si spende per i cittadini che sono nell'area del raggio d'azione della discarica che fosse del cassero non è che la alia non li vuole non è che ce li sconta alia eccoli qua non noi eccoli qua tutti gli altri cittadini che non abitano il raggio d'azione pagano qualche centesimo in più per ripagare quei 32 mila euro quindi in questo senso delle azioni poi dice si può fare di più invece di levare gli latiari diamogli addirittura il contributo per qualcos'altro ok dice quanto avresti spesso di tari 300 ecco non solo non te le fa pagare ti do altri 300 in mano e bisogna trovare altri 32 mila euro dove si prendono dove si prendono noi si passerà nel 2025 alla tariffa puntuale quindi tanto si scarica tanto si paga e per scelta politica e per normativa perché tanto nel 2026 sarebbe obbligatorio quindi non è che si abbia da scialare tanto c'è una tariffa che viene stabilita dal lato come ricordavo prima che nasce da un sistema di smaltimento dei rifiuti che la Toscana legittimamente ha scelto per il quale il 48% dei rifiuti viene smaltito in regione e il 52% viene portato fuori in regione non voglio dire se sia giusto o sbagliato io ho la mia idea ma non è questa la sede ci sono i consiglieri regionali c'è la giunta regionale che decide queste cose io ho la mia idea ma sono loro a dove lo decidere se si smaltisse invece il 48% il 60% costerebbe meno è giusto è sbagliato è così se si smaltisse il 20% in casa e l'80% fuori costerebbe di più la tariffa prevede che tanto costa tanto si deve pagare esattamente come si paga il telefono la luce il gas più accendo il riscaldamento a casa e più mi arriverà la bolletta aumentata a fine bimestre e quindi il comune ci mette del suo per aiutare certe categorie ma c'è un limite quello finanziario quanti soldi ci sa nel tempo la quota di quelli che abitano nel raggio della discarica in realtà è aumentata perché sono aumentati gli abitanti di quella zona lì alcune case erano abbandonate e sono state occupate quindi qualcuno ha beneficiato in più e noi lasciando sempre potrebbe essere una misura che si leva da un minuto all'altro e il consiglio decide non è che voglio dire c'è scritto una legge che ci obbliga a farlo però se si aumenta se si facesse ostruire 100 appartamenti in quella zona invece 32 ce ne vuole 45 ma quei 12-13 mila euro in più vanno trovati quindi chi ama la politica ci dovrebbe dare dei suggerimenti delle soluzioni non solo critiche io ho visto che immediatamente qualcuno ha preso la mia dichiarazione di prima sull'indennità degli amministratori e dei nidi dicendo i nidi beneficiano i cittadini le indennità degli amministratori beneficiano gli amministratori no 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 in tempo reale mentre lo dicevo qualcuno lo scriveva su facebook in tempo reale quindi hanno anche una velocità di c'hanno una velocità di digitazione che io non ce l'ho vi dico la verità però voglio dire è chiaro ma ripeto lo spirito non era quello di dire che i nidi è sbagliato le indennità sono giuste o viceversa lo spirito è di dire ci sono due normative diverse su argomenti diversi che danno al comune un impegno e delle risorse e noi abbiamo preso l'impegno e le risorse quanto agli amministratori così rispondo abbiamo scelto di applicarlo gradualmente noi potevamo aumentarci il primo anno totalmente totalmente invece e invece qualcuno tutti in giunta si disse no 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 prendiamo il primo anno un pochino il secondo un pochino e il terzo un pochino quello che prenderemo nel 2024 l'avremmo potuto prendere nel 2022 e ai cittadini del comune non sarebbe costato nulla ma gli amministratori a torto ragione non era una pubblicità hanno scelto così quando ero consigliere minoranza chiesi al sindaco Mungai di tagliare l'indenità del 20% a tutti gli amministratori primo consiglio secondo secondo perché nel primo c'è il giuramento il sindaco Mungai all'epoca mi rispose no l'indenità è anche troppo poca perché gli amministratori fanno un lavoro ed è giusto che venga retribuito venga indennizzato non retribuito perché non è retribuzione venga indennizzato perché fanno delle rinunce a ore di lavoro a tempo libero a altre cose e quindi è giusto che venga indennizzato esatto mi trovo però un po' spiazzato quando il partito del sindaco Mungai mi dice esattamente il contrario di quello che diceva il sindaco Mungai allora io trovo un po' sclerotico anzi un po' schizofrenico che un partito nel 2015 mi sostenga una posizione nel 2020 mi sostenga esattamente l'opposto di quella posizione gli esponenti di quel partito uno in particolar modo è nel 2015 stava zitto e oggi lo scrive tutti i giorni che Lunardi è diventato ricco ma del Mungai non lo diceva eppure era iscritto allo stesso partito del Mungai all'epoca come è iscritto oggi e parlo del signor Mario Scelta così almeno lo chiamo anche per nome visto che mi pone tanta attenzione su quello che dico voglio porre un po' d'attenzione su quello che dice lui perché nel 2015 non ha sposato la mia tesi e sposava quella di Mungai oggi si chiama Lunardi il sindaco non va più bene il sindaco adesso è povero non deve prendere l'indennità deve essere un francescano votato alla povertà bravo no quelli sono carmelitani ma insomma va bene ma lo dico realmente non per vis polemica lo dico perché vorrei invece di leggere queste osse vorrei ascoltare delle proposte questo è l'ha detto un pochino Roy l'ha detto l'Agostini cioè questo io vorrei sentire e lo stesso sul bilancio il nei giorni dell'alluvione io ho letto qualcuno che scriveva che si era fatto un'idiozia totale nella gestione dei sacchi di sabbia ok quanto si è spesso i sacchi di sabbia? ecco 18 mila euro al di là della spesa c'erano dei cittadini volontari alcuni minorenni che erano qui a distribuire i sacchi di sabbia c'era qualcun altro che nel frattempo scriveva su facebook insomma io avrei voluto vedere quelle persone che poi magari avevano tutto il diritto di scrivere su facebook di dire che si era gestito male avrei voluto vederle prima qui a scaricare i sacchi di sabbia che pensavano 10 chili l'uno e si cariavano direttamente in macchina delle persone io il bruschi altri due o tre che ci si era lì ma a livello di volontariato ripeto anche minorenni ok e invece qualcuno ha avuto il coraggio di dire che si era fatto delle parzialità si era data a qualcuno sia a qualcuno o no secondo le simpatie ora una persona minorenne lo fa come hanno fatto tanti che sono andati a spalare il fango tanti ragazzi tanti studenti qui a Quarrata a Seano a Baiana a Montemurlo a Montale sono andati a spalare il fango dove c'era bisogno e non credo abbiano chiesto nelle casse e votavano dice te come voti io sì allora il fango tu te lo tieni te invece voti bene e allora te lo spallo no non funziona in questa maniera allora ecco se veramente si ritorna allo spirito del voler bene al nostro comune al nostro territorio ai nostri paesi alle nostre comunità ai nostri concittadini cerchiamo di tirare fuori noi siamo aperti al confronto se ci viene una buona idea come ci confrontiamo tra di noi e ritorno all'origine a dire anche noi siamo diversi tra di noi e ci confrontiamo e dobbiamo confrontarci nella diversità per crescere perché la mia idea rispetto a quella di Bruschi su una certa cosa può essere un po' diversa allora magari parlandone viene fuori la terza idea che non è nella sua nella mia ma che è meglio della sua e della mia messa insieme ecco se arrivano contributi così anche da chi non è in consiglio comunale ma ama la politica la politica alta la politica vera la politica seria la politica sincera non siamo aperti a ascoltare delle proposte ma non mi si venga a dire che il mago Merlino non ha parcheggi ed è in zona alluvionale perché questo non è vero ed è contraddice totalmente quello che c'era prima cioè la scuola elementare Fucini che era in zona alluvionale non aveva parcheggi esattamente come ora però quando era scuola Fucini andava bene e quando cresce diventato mago Merlino è diventato il peccato mortale questo non è non è spirito questo è spirito solo di contraddizione ripeto non parlo a voi tre che siete qui anzi io vi devo ringraziare per questo dibattito perché è stato stimolante serio interessante e la Federica ci la Federica ci lascia ma ci saranno tanti altri dibattiti con la Valentina c'è un rapporto diverso e con la Federica perché è più peperina quindi però è stimolante in maniera diversa rispetto alla Federica questo perché lo dico non per fare i complimenti ora anche ma perché quello che vorrei appunto dalla dalla minoranza o comunque da chi non la pensa totalmente come questa amministrazione vorrei un dibattito sincero anche un po' peposo ma sincero e propositivo questo chiedo grazie Federico Gorbi vogliamo applicare il regolamento allora se vogliamo applicare il regolamento può riparlare il capogruppo 5 minuti 5 minuti il capogruppo può parlare però non dopo la risposta dell'assessore può parlare due volte del solito argomento la prima volta 10 e la seconda 5 durante il trattamento della è un regolamento fatto insieme quindi è stato fatto votato da tutti c'era anche ieri sera c'era c'era anche ieri sera andiamo avanti allora si mette la dichiarazione di voto Cioni Cioni con un buon lavoro ecco anche perché mi emoziona un pochino perché comunque la Cioni anche io è la prima persona un po' che ci ho avuto all'inizio sì perché poi il bilancio non sono cose facili quindi è tutto è tutto diverso da gestire un'azienda quindi ecco i primi confronti l'ho avuti con la Federica quindi e ti ringrazio e buon lavoro a Valentina niente questa è la dichiarazione di voto permettimi di aggiungere solo una cosa il voto la contrarietà del voto non è magari nel contestare i lavori che giustamente vengono fatti a volte anche può essere anche la cronologia che chiaramente io non sono chiamato a a decidere quando anche l'assessore a lavori pubblici la giunta si ritrova a decidere su tante cose che chiaramente la minoranza o anche personalmente non sono a conoscenza perché comunque per me io potrei telefono io ti telefono ma non è che tutte le volte ti posso stare a telefonare tutti i giorni e tu lo sai che ti telefono ti mando whatsapp anche per essere costruttivo comunque e per segnalare i problemi e i lavori che insomma che mi vengano riportati a me dall'agente quindi io l'assessore di competenza lavori pubblici e lui quindi gli mando o gli telefono quindi e può essere anche un voto contrario sulla realizzazione di un progetto perché comunque è normale che non vengo io chiamato a decidere che ne so ha detto il campino dietro le mille luci chiaramente sì e ci sarà un paio due tre progetti e voi l'approverete o l'assessore lavori pubblici li vede insomma verrà presa delle decisioni a secondo delle esigenze che voi ritenete più opportune però non è che io io magari l'avrei realizzato in un altro modo io ce l'ho un'idea di come l'avrei fatto però ecco ecco quindi la contrarietà del voto non è né nel contestare i lavori che vengano decisi alla realizzazione anzi io vi auguro che vengano realizzati nella metà del tempo che ci vuole quindi per il bene dei cittadini e di tutti bene comunque il voto il voto nostro è contrario l'avevi detto tre volte tu l'hai detto grazie non me l'hai accorto è rapido Stefano sì io invece noi ovviamente siamo favorevoli vorrei nessuno vuole che la minoranza ci voti a favore il bilancio nessuno di noi l'ha detto nessuno vuole questo vorremmo perché fosse portata avanti in maniera molto insomma incisiva delle proposte migliorative sul bilancio perché dire questa cosa io l'avrei fatta in un altro modo mi pare un po' pretestuoso cioè un po' privo di sostanza tuttavia chiaramente il gioco delle parti comporta anche queste scelte e noi se ne prendiamo atto però votiamo a favore e tiriamo innanzi come si dice in gergo tecnico bene grazie Agostini allora si mette in votazione il punto 4 dopo si fa la dichiarazione di voto anche degli altri punti allora approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 e del relativo elenco annuale 2024 ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 36-2023 e allegato i 5 allora metto in votazione avvio la votazione avvio la votazione 3 contrari nessuno astenuto bene l'immediata eseguibilità c'è vero vera sì sì c'è bene allora immediata eseguibilità avvia bene si può votare sì bene votazione completa termino votazione approvato con 15 voti favorevoli all'unanimità bene allora ora si fa il punto 5 approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione DUP 2024-2026 ci sono dichiarazioni di voto? sì allora Cioni alla parola sì l'abbiamo già argomentato chiaramente nel punto precedente quindi il nostro voto è contrario bene grazie Cioni Agostini invece il nostro voto è favorevole per le motivazioni se detto per i punti precedenti bene ok grazie Stefano allora si va alla votazione del punto 5 possiamo votare votazione completa approvato con 12 voti favorevoli 3 contrari 0 astenuti anche qui c'è l'immediata eseguibilità votazione avviata possiamo votare votazione completa approvato 15 voti favorevoli ottimo ora andiamo al punto 6 che è bilancio di previsione 2024-2026 approvazione dichiarazione di voto Sandro Cioni anche qui mi ricollego alle dichiarazioni precedenti il nostro voto è contrario bene Stefano Agostini anch'io mi rifo a quello è stato detto prima il nostro voto è favorevole bene grazie allora possiamo mettere in votazione 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 completata provvedimento 12 favorevoli 3 contrari 0 astenuti approvato immediata eseguibilità si può votare votazione completa bene 15 favorevoli all'unanimità 0 contrari 0 astenuti bene ora possiamo passare al punto 7 che è revisione periodica delle partecipazioni ex articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175 come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 numero 100 ricognizione attuazione misure di razionalizzazione c'è il punto 8 che è collegato a questo punto che lo discuterei insieme poi si votano separatamente allora il punto 8 è articolo 30 decreto legislativo 201 2022 relazione di ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica approvazione quindi si tratteranno questi due punti e poi si voteranno singolarmente la parola all'assessore Gargini Alessio ok grazie questo è un argomento che ha messo un po' a dura prova anche funzionare perché è un argomento nuovo ogni tanto c'è proprio nell'indirizzo della semplificazione amministrativa si tratta di questo nuovo adempimento a seguito di quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo 201 del 2022 e questo prevede che i comuni e le loro eventuali forme associative effettuino una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica quindi una relazione annuale che indichi l'andamento dal punto di vista economico efficienza qualità del servizio rispetto degli obblighi contrattuali e di tutta un'altra serie di indicatori da farsi contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate che proprio per questa ultima contestualità ricade nelle materie riservate al Consiglio Comunale dico per questa contestualità perché la norma la norma non è abbastanza chiara è tutto appunto fuorché chiara tanto è che parlando con il nostro funzionario incaricato di risolvere questo intrigo che va risolto entro la fine dell'anno pena una sanzione di decine e decine di migliaia di euro ecco perché c'è la caccia a chi sbaglia per punirlo più che per altre cose dico questo perché parlando con lui ha fatto due webinar come si dice ora per le amministrazioni che si trovano tutte in questa situazione nuova dove l'una diceva il contrario dell'altra tanto per farvi capire come siamo messi addirittura l'anac sapete tutti che l'anac è l'autorità nazionale anticorruzione ha suggerito di prendere per buone le indicazioni del lanci che sono contenute l'aveva fatta qualche mese fa nel quaderno 42 mi sembra se si è studiato bene per l'esattezza tutto ciò considerato questa ricognizione seppur cogliendo le analisi essenziali è stata redatta in una forma minimale anche perché in questi frangenti di incertezza meno si scrive e meglio e meglio è con la riserva però di apportare eventuali integrazioni a seguito di una evoluzione normativa o di chiarimenti applicativi io dico le cose come stanno ma Alessio ma in buona sostanza ma di cosa stiamo parlando nel concreto perché se no tutti questi discorsi ma non si è ancora capito nulla ma questo è quello che ci chiede la norma stiamo parlando dell'analisi dell'analisi ricognitoria verificata dei seguenti servizi pubblici che abbiamo affidato con rilevanza economica e cioè della ristorazione scolastica del trasporto scolastico dei servizi cimiteriali e della gestione delle lampade votive e degli impianti sportivi a cui abbiamo affidato la gestione e si parla del campo Barni del campo vecchio in via Matteotti a Casalguidi del campo di calcio a Masotti dei campi da tennis a Seravalle il capoluogo e dei campi da tennis nella zona sportiva appunto di Casalguidi tra questi servizi non sono compresi quelli cosiddetti a rete quali sono gas rifiuti servizi idrici autoline e quant'altro dove ci penseranno i vari gestori responsabili del servizio come Publiacqua Regione Toscana eccetera anche perché se tutti i comuni avressero dovuto mettere anche questi sarebbe arrivato il mondo intero poi voglio vedere anche all'ANA che come fanno può aderimere e a individuare il responsabile o colui che non si comporta come si dovrebbe comportare bene per tutto ciò per i servizi che ho detto più sopra quelli di prima sono state compilate le singole schede con tutti gli indicatori minimi e di qualità richiesti dico minimi si fa per dire perché chi di voi le ha potuti consultare si sarà reso conto di questo complicato e articolato processo per ognuna di quelle cose c'è tutta una lista di indicatori anche di qualità provvedimento questo provvedimento urgente chiaramente perché domani mattina dovrà essere inoltrato all'ANA che per la pubblicazione sul loro portale che poi lo ritroveremo in un'apposita in un'apposita sezione denominata appunto trasparenza SPL che sta per servizi pubblici chiaramente locali appena la sanzione che ho detto prima ora siccome è in concomitanza all'altra cosa delle partecipate che poi questa invece tutti gli anni ci ritroviamo a fine anno a a deliberare e sono altre schede perché anche il lavoro nell'amministrazione è un continuo riempire schede riepilogative di indicatori ma per tutto per qualsiasi cosa cose che portano via più della metà del tempo destinato al lavoro comunque se sono necessarie benvenga qui si tratta appunto partecipate le abbino ci tratta di approvare alcune schede di rilevazione per la relazione appunto dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni anche questo da farsi entro il 31 di dicembre di ogni anno così come indicato all'articolo 20 lettera c punto 4 del TUSP ovvero cos'è il TUSP il testo unico in materia di società e partecipazione pubblica così come voluto dalla legge Madia è una valutazione obbligatoria e annuale il riferimento per quest'anno è al 31 guardate bene è al 31 12 2022 non la situazione dell'anno ma la situazione al 31 12 del 2022 di un anno fa dell'assetto complessivo delle società delle quali abbiamo ancora partecipazione diretta o indiretta dove possiamo intervenire con il potere appunto di fusione di riassetto di soppressione messa in liquidazione cessione che più ne ha più ne metta ciò detto a noi a quella data del 22 deteniamo le seguenti partecipazioni che sono le stesse che abbiamo deliberato l'anno scorso pubblici servizi SPA pubblicacqua SPA SPESS SCRL COPIT SPA in liquidazione in corso da maggio 2002 col passaggio a l'autolinea di Toscane ma ancora non è complessamente risolto e la PMI SCRL anche quella in liquidazione da marzo 2014 ma ancora in essere ho partecipato a più riunioni per questa sensazione di questa PMI di cui non si vede mai la fine queste però al 2022 erano in essere come nostre partecipate poi chi vuole chi ha avuto modo di consultare la delibera troverà poi tutte le varie perché poi anche per queste si deve dire se tutto funziona bene quali sono i programmi cosa sono la bievito questa questa storia che poi è la stessa praticamente dell'anno passato magari un altro anno un altro anno sarà diversa perché alcune di queste cose andranno a soluzione vuoi perché la multi utility vuoi perché la PMI finalmente vuoi perché autolinea Toscane cioè l'ex copit diventerà ma questo rimandiamolo al duemila al duemila venti quattro bene non ho altro da dire sono pronto a tutte le domande poi c'è la sessore Ilaria al sociale che per quanto riguarda e all'istruzione per quanto riguarda la rifezione scolastica il trasporto pubblico può darvi delucidazione ancora maggiore di quelle che non vi ho potuto dare io grazie la parola all'assessore Gargini per illustrare sì allora aggiungo aggiungo poco a ciò che ha già detto l'assessore Gargini Alessio io mi riferisco in particolare ai due servizi legati a una delle mie deleghe appunto l'istruzione che sono il trasporto scolastico e la rifezione scolastica e cosa dire prima di tutto devo dire che sono dei servizi importanti che vanno a coprire le esigenze di un territorio molto vasto si parla ora mi riferisco al trasporto scolastico si parla di un territorio di 348 mila chilometri quindi noi sappiamo bene che il trasporto scolastico è un elemento importante a Casa Guidi ancora più importante dalla parte di Masotti Castellina Serravalle Ponte di Serravalle perché là la morfologia del territorio è ancora più articolata e quindi il raggiungimento delle nostre scuole in IDI dove i bimbi vengono ovviamente portati dai genitori la scuola dell'infanzia la scuola primaria e la secondaria di primo grado hanno necessità di utilizzare spesso il trasporto scolastico e questo è visibile dai numeri che sono stati riportati in queste schede chiaramente si capisce bene che rispondere alle esigenze di un doppio territorio da sempre è insomma un impegno notevole una realtà articolata che prevede una piena collaborazione tra l'ufficio istruzione l'assessorato all'istruzione e l'ente a cui è stato assegnato questo tipo di lavoro e le risposte sono sempre state date ad oggi la nostra amministrazione ha mantenuto il porta a porta diciamo perché ogni bambino ogni volta che un genitore fa richiesta di utilizzo dello scuolabus deve indicare dove il bambino deve essere prelevato e dove deve essere riportato e questo io credo io mi confronto con Pistoia con Quarrata con Agliana con Montale con i comuni della Piana ci ritroviamo a livello provinciale a livello di istruzione e veramente è un servizio assai raro lo devo dire chiaramente che talvolta può portare a delle complicazioni a delle richieste ulteriori a dei ritardi la ditta assegnataria ha scelto un referente è un consorzio un referente che per farvi capire ha il cellulare acceso sei giorni su sette 24 ore al giorno perché si parla di trasporto di bambini e di ragazzi addirittura per il trasporto dei ragazzi della scuola dell'infanzia l'amministrazione prevede la presenza di un sorvegliante che è spesso una persona dell'auser che è presente all'interno del pulmino perché l'autista deve guidare quindi insomma deve fare attenzione alla strada però talvolta i bimbi più piccoli hanno necessità di un controllo o per farli scendere anche o salire quindi ecco io devo dire che come assessore all'istruzione sono soddisfatta di questo servizio questa nuova realtà che ci viene chiesta quest'anno con la legge a cui ha fatto riferimento Alessio ha oggetto la qualità e l'efficienza personalmente ritengo che il servizio sia di qualità e sia efficiente i rapporti con i genitori con l'ufficio istruzione sono costanti talvolta scrivono anche a me quando ci sono necessità particolari o qualcosa che non è andato nel verso giusto perché tutto viene messo a verbale tutto viene approfondito per poter chiarire le situazioni perché si parla di minori per quanto riguarda la rifezione scolastica il discorso è assai complesso noi sappiamo che l'azienda che ha vinto la gara è la Sheer Food che con il 24 andrà a cessazione doveva terminare il 30 giugno ma per un recupero di mesi legati al periodo del Covid andiamo al 31 dicembre allora le problematiche legate alla mensa ci sono sempre state e ci sono tutt'oggi nonostante il massimo impegno di tutte le parti e che cosa si intende per tutte le parti la Sheer Food in primis la cui sede è a Monsummano che abbiamo visitato più volte e che fornisce alle scuole del nostro territorio quindi Masotti e Casalguidi i secondi piatti con i contorni o l'eventuale dolce la frutta e il pane normalmente il primo viene preparato in loco perché nel 2017 noi attivammo quasi immediatamente insomma nei primi sei mesi di mandato i cuoci pasta in entrambe le sedi di Casalguidi e di Masotti scuola primaria e scuola dell'infanzia e questo ovviamente fu un salto di qualità notevole che permane nel tempo nonostante questo è inutile dire che non ci sono lamentele qualche lamentela c'è qualche bambino disappetente c'è qualche pasto non gradito c'è ecco perché esiste una commissione mensa con un presidente con dei referenti dei vari ordini di scuola con il dirigente scolastico con le maestre che lavorano all'infanzia o alla scuola primaria c'è un procedimento da fare quando c'è qualcosa che non va proprio perché ci sono dei referenti e questo viene messo in atto quando viene rilevato un qualcosa di non gradito oppure un qualcosa che non va bene nell'andamento appunto dello sporzionamento dello sparicchiamento ecco le singole lamentele che vengono fatte come è normale che sia vengono prese in mano sia da me sia dall'ufficio istruzione dalla scuola stessa dalle insegnanti si cerca di capire di approfondire di capire se è la lamentela di uno due ragazzi o se è un qualcosa di generalizzato ovviamente voglio ribadire una cosa è quando se c'è qualcosa che non va bisogna seguire il procedimento richiesto che è una segnalazione al dirigente scolastico alla segreteria e di conseguenza all'ufficio istruzione e alla sheer food la sheer food si è sempre dimostrata disponibile nella collaborazione nel cambiamento dei menù però noi bisogna anche ricordare colgo questa occasione tanto ormai è comunque tardi che i menù scolastici in base agli ordini di scuola vengono fatti da una dietista dell'ASL e la dietista deve rispettare dei principi alimentari che prevedono la presenza delle verdure la presenza del pesce per esempio il pesce sappiamo bene che è uno degli alimenti poco graditi dai bambini sia che venga fatto a polpetta frittatina lesso un po' fritto ma poi diventa morbido perché viene da monsummano insomma senza andare nel particolare è un alimento che ogni volta che abbiamo fatto le riunioni e le facciamo spesso normalmente due tre volte l'anno più le volte che vengono richieste viene sale su questo argomento però l'alimentazione è una delle basi dell'educazione e quindi io personalmente un assessore all'istruzione ma anche come genitore ho sempre ritenuto che si debba invitare i bambini ad assaggiare senza forzarli ci mancherebbe perché è giusto che ogni bambino rispetti la sua natura in modo che la famiglia avendo una app di riferimento possa alternare il pasto serale che viene fatto a casa con ciò che è più gradito dal bambino quindi ecco io devo dire che la qualità e l'efficienza vengono rispettate anche all'interno della nostra rifezione scolastica che talvolta viene criticata dall'utenza voglio ricordare che ad oggi il costo dell'utente è di 4 euro e 90 ma il comune mette 1 euro e 0 3 centesimi per ogni bambino si va sui circa 90.000 euro di spesa all'anno da parte del comune quindi insomma è chiaro che l'attenzione è massima l'attenzione è massima sempre perché questa è la volontà dell'intera amministrazione a maggior ragione quando si parla di bambini piccoli o di ragazzi ecco insomma questo è quello che volevo evidenziare se avete domande sono disponibili grazie grazie assessore gargini ci sono delle prenotazioni per la parola se non ci sono prenotazioni per la parola direi di passare alle dichiarazioni di voto per entrambi i punti se ci sono le dichiarazioni di voto sì bene allora barbasso dichiarazione di voto grazie premesso che forse non ci arrivo io non ci ho capito ci ho capito poco questo bisogna essere sinceri perché diciamo diciamo che per quanto riguarda un attimino figlio perché mi sembra giusto riconoscere all'assessore gargini femmina che ha fatto una relazione in cui ha spiegato per filo e per segno come funziona siccome io lavoravo anch'io in questo settore e quindi so benissimo come funziona la cosa e che l'impegno vedo che c'è in particolare sul pulmino mi sembra un servizio che visto la geologia del comune non è di poco sarebbe facile se fosse acquarrata sarebbe diverso no? Comunque ripeto ora a parte complimenti per oggi stasera siamo tutti buoni che lavoro è? Insomma premesso la il il buon lavoro che si magari qualche qualcosa ci è aggiunto anche a noi di protesta sul mangiare resta da vedere se se è un se è occasionale o se è accidentale o se insomma lasciamo perdere una cosa ti volevo chiedere è se voi verificate giornalmente che siccome le 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 diete sono trimestrali mi pare no inverni invernali se 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 corrisponde o mi è mai capitato che che corrispondeva perché a noi ci è capitato spesso e volentieri che non corrispondevano va beh questa è una cosa comunque per la dichiarazione di voto mi scuso per l'allungaggine non l'affare tu hai fatto un intervento si dà l'opportunità agli assessori di rispondere e poi la Caterina fa la dichiarazione di voto tanto va bene è un intervento tu hai fatto un ragionamento sui punti che sono stati che sono stati insomma illustrati da da loro bene grazie ci sono risposte sì allora altri interventi no bene allora la risposta a assessore Ilaria Gargini sì allora rispondo volentieri talvolta può capitare di trovare in mensa un alimento un piatto diverso da quello indicato nell'app menu chiaro solitamente quando avviene questo c'è una comunicazione all'ufficio istruzione e alla scuola in contemporanea se è possibile nei giorni precedenti altrimenti anche il giorno stesso e arriva anche ai referenti della commissione mensa in modo che possano riferire ai rappresentanti di classe genitori quando è che succede ad esempio con la cheer food c'è l'accordo scritto di scegliere quando è possibile verdure biologiche ecco quando non c'è stato un qualcosa di biologico è stata scelta un'altra frutta o un'altra verdura per rimanere nell'ambito biologico oppure nel post covid oltre all'aumento notevole di tutto compreso gli alimenti talvolta c'è stato un problema nel trasporto e quindi magari non è arrivato un qualcosa che doveva arrivare allora invece del petto di pollo è stato fatto il petto di tacchino però la comunicazione devo dire che è piuttosto capillare perché parte dalla cheer food c'è la collaborazione della scuola e ovviamente dell'ufficio istruzione sicché si riesce a sapere talvolta può essere che qualche genitore non gradisce questo cambiamento perché magari il bambino il petto di pollo lo mangia il tacchino un po' più raposo gli garba di meno e queste cose accadono però la comunicazione c'è ecco bene risponde Gargini Alessio non mi alzo perché se no mi faccio prendere la discussione dicevo Barbasso se ci mettiamo a parlare della gestione dei campi sportivi entriamo uno per uno tutte cose belle interessanti ma qui si tratta di rispondere a un'esigenza che ci viene dal Ministero per quanto riguarda la situazione dal punto di vista della qualità del servizio ma noi non è che ci mettiamo lì a rispondere noi rispondiamo dicendo non si rilevano criticità in relazione alla qualità del servizio poi magari ci dilunghiamo in altre cose ma non è che esponiamo tutta una serie di considerazioni come è stato fatto e che possono essere e che possono essere interessanti no la situazione rispetto degli obblighi contrattuali quant'è la spesa annuale a carico dell'ente per l'erogazione di questo di questo servizio la durata la scadenza del contratto se vengono stabiliti è tutto un processo su quell'affidamento va bene che vi seziona tutta una serie di cose da comunicare in modo che ci sia un elenco dal quale poi si possono trarre anche situazioni non congrue per quanto riguarda tutta questa serie di affidamenti dei servizi ma è questo tabellamento che abbiamo fatto e che stasera andiamo a verificare e a votare non è il discorso generale su quello che è la riflessione scolastica e il pulmino chi c'è sopra chi c'è sotto vogliono sapere come funziona questo no sotto speriamo ci sia poca gente a volte c'è stato anche qualcuno sotto però questo era di difficile inquadramento perché penso che questa cosa abbia un'evoluzione che consenta anche a chi domani deve controllare di essere anche più puntuale poi nel dare certe risposte o indirizzare gli enti a un altro tipo di atteggiamento su questi affidamenti è tutto qua molto complicato io ho cercato di semplificarlo capisco che è complicato per tutti non è solamente per te che magari tu arrivi e tu ti trovi di fronte a questa situazione è complicato per tutti ma siamo riusciti riusciti anche se in modo minimale minimale sempre tra virgolette adempiere anche a questo provvedimento allora prima della dichiarazione di voto sono due punti che sono separati rientrano diciamo in quello che poi mi corregga la dottoressa Simoni se sbaglio sono due provvedimenti uno è la revisione periodica delle partecipazioni che c'è sempre stata giusto c'era anche l'anno scorso è sempre stata fatta cosa è è un quadro che il ministero vuole avere su quelle che sono le partecipazioni attive in azioni su tutte quelle che sono le partecipazioni che avevamo ce n'è alcune che sono come avete visto già dismesse da diverso tempo però finché non viene liquidata non viene fatta la riunione e la liquidazione noi dobbiamo continuare a portarle in questo elenco che serve al ministero per vedere il quadro diciamo siccome questa roba qua questa roba qua poi andrà nel nel bilancio consolidato scusate mi veniva nel bilancio consolidato che sarebbe quando viene fatto il bilancio consolidato non si parla solo dei numeri in cash entrate e uscite ma si parla anche di patrimonio e di quello che delle partecipazioni che hanno i vari i comuni nelle aziende partecipate quell'altra è una nuova ricognizione che stanno chiedendo che fa sempre parte della stessa cosa perché comunque non riguarda le partecipazioni in azioni ma riguarda comunque delle aziende che fanno dei servizi per il comune e insieme al comune e quindi sono due tabelle che il ministero chiede alla fine dell'anno una l'ha sempre chiesta l'altra l'ha cominciata a chiedere da quest'anno ma l'anno prossimo sicuramente ce la ritroveremo se ho sbagliato ditemelo per farvi capire un attimino perché giustamente gli assessori hanno spiegato nel dettaglio quello che siamo andati a vedere però magari il provvedimento cos'è è questo in sostanza siamo dichiarazione di voto Benini o no Raffaello aspetta ti do la parola vai ma e siccome arrivo 30 secondi per questo diciamo volere diciamo dare dei punteggi è sempre un po' esito a tutte le parti pensate che per fare un appendicite ci vuole 30 minuti poi magari uno ha un'emorragia e questi 30 minuti vanno a farsi fotte no? in sostanza diciamo che viene dato un punteggio alla cosa non è che non l'avessi capito come funzionava la cosa diciamo che mi sembra un po' un volere diciamo fare una valutazione a punti il che secondo me su certi servizi non lasciano te tu facci la dichiarazione di voi comunque visto noi abbiamo prendiamo altre cose noi naturalmente ci asserremo a questi due punti quindi la motivazione eh una motivazione la motivazione perché a noi ci sembra un po' troppo diciamo ma non è addebitabile alla giunta ci mancherebbe altro è una una constatazione di fatto di queste burocratizzazioni delle delle richieste grazie soddisfatto? sì 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 bene ottimo ottimo scusate Stefano Agostini dichiarazione di voto Stefano sì sì allora c'è da dire che per quanto l'ANAC sia particolarmente stimolante sul piano delle richieste sicuramente per le amministrazioni minori come siamo noi tutte queste problematiche ulteriori comportano a gravi di tempi e di costi che sarebbe auspicabile che non ci fossero però purtroppo siamo in uno stato quando ci arriva queste indicazioni da strutture governative dobbiamo rispondere per cui il lavoro è stato fatto è stato fatto al meglio mi pare di aver compreso da come sono state spiegate per cui siamo favorevoli punto e basta magari sarebbe stata auspicabile se coinvolti prima di essere oberati dalle richieste comunque siamo favorevoli grazie grazie si mette in votazione allora intanto il punto 7 scusate gli occhiali se no non leggo nulla revisione periodica delle partecipazioni ex articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175 come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 numero 100 ricognizione attuazione misure di razionalizzazione questo è il punto 7 che metto in votazione se ha sbagliato che c'è da annullare vero a cambia cambia allora se non hai ancora chiuso la votazione no 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 allora a posto bene manca un votante bene votazione completa allora approvato con 12 voti favorevoli 0 contrari e 3 astenuti su questa c'è anche l'immediata eseguibilità allora via bene manca un bene completo completo termino la votazione eseguibilità 15 voti favorevoli 0 contrari 0 astenuti approvato bene ora si passa al punto 8 che è articolo 30 decreto legislativo 201 2022 relazione di ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica approvazione volete fare anche una dichiarazione di voto su questa o basta quella di prima bene Stefano no no basta no no ok ok bene metto in votazione avvio la votazione completa bene 12 voti favorevoli 0 contrari 3 astenuti approvato immediata eseguibilità votazione completa termino la votazione 15 voti favorevoli 0 contrari 0 astenuti approvato bene ora passiamo al punto successivo che non me lo prende porca miseria ah eccoci perfetto buon anno buona serata buona serata buona nottata allora punto 9 modifica articolo 35 del regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con delibera di consiglio comunale numero 67 2016 modificato con delibera di consiglio comunale numero 68 2018 la parola per illustrare all'assessore vettori allora sarò brevissima è un piccolo intervento allora si va a fare una piccola modifica a quello che è l'articolo 35 del nostro regolamento del commercio questa è una modifica che riguarda i mercatini degli obbisti quindi mercatini non professionisti è una modifica che si è resa necessaria perché capita molto spesso che associazioni o comitati del territorio ci chiedano di fare questi mercatini noi abbiamo da regolamento un limite massimo di tre mercatini all'anno sempre di obbisti sto parlando però spesso capita appunto che vengano organizzati questi mercatini con la presenza di pochissimi operatori due tre massimo questo chiaramente va a occupare uno dei tre posti però magari non permette poi l'organizzazione essendo un numero così limitato non permette l'organizzazione di mercatini più numerosi quindi si va a modificare questo articolo aggiungendo vi dico in generale quali sono le di cosa prevede l'articolo 35 allora prevede innanzitutto appunto l'esercizio dell'attività di vendita da parte degli operatori non professionisti poi a grandi linee le cose più importanti per essere breve gli oggetti di vendita devono avere un prezzo unitario non superiore a 100 euro per un valore complessivo della merce esibita non superiore a 1000 euro queste manifestazioni possono essere realizzate anche da un soggetto terzo come quello che vi stavo appunto dicendo ora quindi un comitato un'associazione tutti i mercatini devono essere ovviamente autorizzate dalla giunta comunale sempre per un massimo di tre però abbiamo inserito questa clausola che dice che può essere considerato un mercatino vero e proprio se c'è la presenza di almeno 10 o più operatori quindi da 10 in giù diciamo non rientrano nel conteggio dei tre mercatini annuali se sono stata chiara quindi se ne possono fare di più chiaramente quelli con 10 o più operatori dovranno essere 3 all'anno altri con un numero di operatori inferiore può essere anche più fatto più spesso grazie bene si apre il dibattito su questo punto chi vuole la parola bene allora dichiarazione di voto allora Sandro Sioni si è prenotato il nostro voto per questo punto è favorevole bene ottimo Stefano sì il nostro voto è favorevole per cui va bene benissimo ottimo ottimo grazie Stefano allora a questo punto si va in votazione diretta avvio la votazione votazione completa 15 voti favorevoli 0 contrari 0 astenuti approvato qui c'è l'immediata eseguibilità vera? sì l'ufficio ha chiesto l'immediata eseguibilità ok bene bene allora si rivolta per l'immediata eseguibilità si può votare votazione completa 15 voti favorevoli 0 contrari 0 astenuti approvato anche immediata eseguibilità allora punto 10 dovrebbe essere l'ultimo se non sbaglio allora punto 10 rinnovo incarico garante ai sensi dell'articolo 4 del regolamento comunale sull'istituzione della figura del garante per i diritti della persona disabile lo illustra Ilaria Gargini sì sarò veloce allora voi sapete che la figura del garante per i diritti della persona con disabilità è stata inserita dal consiglio comunale nel dicembre del 2021 la prima nomina è andata alla dottoressa Manuela Di Nicola che aveva presentato il suo curriculum insieme a altri candidati è stata ritenuta dall'intero consiglio la persona più adatta a ricoprire questo ruolo per più motivi per la sua preparazione prima di tutto per la sua predisposizione e quindi questo incarico alla prima nomina ha valore annuale a questo punto è stato richiesto come dal regolamento alla dottoressa Di Nicola di inviare una relazione che è stata inviata a tutti i consiglieri quindi avete avuto la possibilità di leggerla dove la dottoressa mette in luce i rapporti che ci sono stati in quest'annata con l'amministrazione e insomma sicuramente una figura importante che può aiutare in più situazioni persone magari che hanno esigenze particolari oggi siamo qui a votare il triennio di incarico 2024 25 26 tutto qua grazie grazie assessore Gargini interventi mi sembra se detto non ce ne sono volete fare la dichiarazione di voto allora Sioni noi siamo favorevoli bene Agostini anche noi siamo favorevoli bene perfetto si va in votazione allora avvio la votazione votazione completa termine votazione provvedimento è approvato con 15 voti favorevoli 0 contrari 0 astenuti su questa c'è l'immediata eseguibilità si roi perché scade alla fine dell'anno il su questa c'è bene ok ottimo allora si vota per l'immediata eseguibilità allora approvato approvato all'unanimità se 15 voti favorevoli 0 contrari 0 astenuti approvato allora la seduta termina alle ore mezzanotte e 36 chiedo a consigliere di rimanere un secondino a tutti i consiglieri ci scambiamo gli auguri per il fine anno buonanotte a tutti e ci vediamo i primi dell'anno buon anno a tutti vi saluto ora io eh buonanotte e buon anno buonanotte auguri auguri e buon anno ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti